Saluto tutti i partecipanti a questa giornata di orientamento, io sono il direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, che come il nome stesso vi dice è un dipartimento ricco di competenze e offerte di apprendimento le più diverse. C'è la filosofia, sono tre le branche del Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e la filosofia che forse al di là di un certo apprendimento scolastico iniziale pur necessario come si pratica nelle scuole superiori, significa da noi all'università essenzialmente pensiero critico, ragionamento, discernimento dei problemi, possesso di strumenti per qualsiasi lavoro direi, e questo l'esperienza ce l'ha insegnato perché si fanno tanti lavori diversi, lavori sia umanistici sia scientifici. ci sono poi i corsi di studio in comunicazione in cui si imparano le tecniche e i mestieri della comunicazione sia pubblica sia privata perché le professioni vanno dal giornalismo all'editoria, ai lavori di impresa, al marketing e poi ci sono i corsi di studio delle arti dello spettacolo principalmente cinema, teatro, musica che hanno la caratteristica da noi di essere in stretto e costante collegamento con le realtà professionali laddove Roma è una città, come sapete, ricchissima da questo punto di vista, essendo la capitale italiana non solo politica ma anche dello spettacolo e il vantaggio di tutti questi corsi di studio che sono nell'insieme tre corsi triennali e cinque corsi magistrali biennali a cui però vanno aggiunte altre due magistrali che sono interdipartimentali insieme ad altri dipartimenti quindi, il vantaggio è quello di potersi muovere per avere una formazione più completa possibile tra tantissime discipline e ve le elenco brevemente e poi nei piani di studio voi potrete comporre secondo le vostre preferenze in buona misura e in altra misura anche secondo il corso di studio che avete scelto, potete comporre gli esami che vorrete fare e queste discipline ve le elenco brevemente per farvi capire quante sono insomma sulla settantina di docenti che noi siamo sono discipline filosofiche, storiche, letterarie, linguistiche, sociologiche, antropologiche, informatiche, psicologiche che riguardano il cinema, il teatro, la musica come dicevo anche prima, che riguardano anche la storia dell'arte l'estetica, il giornalismo, in generale le scienze umane per l'ambiente ecco, discipline se vogliamo più antiche, più nuove che poi in ogni corso di studio vengono amalgamate al servizio di più precisi profili professionali ma detto questo, su un piano molto generale come avete capito adesso passeremo a piani più specifici e per questo passo la parola alla dottoressa Valentina Cavalletti Grazie Grazie direttore Buongiorno a tutti, a tutte siete moltissimi voi studenti e studentesse che vi siete prenotati a questo incontro del del nostro ciclo delle giornate di vita universitaria annuali quest'anno come sapete siamo online connessi con voi per cercare appunto di mantenere un presidio per il vostro orientamento futuro ci dispiace ovviamente non potervi accogliere nelle nostre bellissime strutture siete molti anche di fuori Roma il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo come tutta Roma 3 orbita nell'area sud di Roma sulla linea metropolitana B nell'area di San Paolo, Garbatella e dell'Ostiense e quindi insomma avrete l'occasione di sicuramente ci speriamo ci auguriamo molto presto di poter fisicamente entrare anche nelle nostre nella nostra comunità e nelle nostre strutture io sono appunto Valentina Cavalletti lavoro all'ufficio orientamento e mi occupo di diciamo organizzare questi incontri e di fare un po' da ponte tra il nostro Ateneo i nostri dipartimenti e le vostre scuole e ora condivido con voi un PowerPoint che cercherà di presentare molto rapidamente i servizi del nostro Ateneo intanto il nostro Ateneo oggi è importante più che mai andarlo a conoscere online quindi vi prego di segnarvi il nostro sito uniroma3.it cosa significa orientarsi? beh quello che ci auguriamo è che voi possiate fare una scelta il possibile consapevole che possa diciamo essere in linea con i vostri diciamo le vostre passioni più profonde delle vostre identità più 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 vera e che vi possiate informare attivamente per porre le domande agli uffici competenti non affidarvi mai al sentito dire e quindi trovare in questo modo le risposte che possano diciamo orientarvi nella maniera più coerente possibile quindi vi voglio ricordare che l'orientamento è un processo non è una cosa che si risolve con una giornata di vita universitaria solamente voi avrete molti dubbi in questo periodo e dovete ascoltarli più possibile affinché insomma possiate appunto cercare di iscrivervi poi all'università e al corso di laurea che più fa per voi quindi siete sicuramente oggi insomma all'incontro giusto se appunto avete interessi nei confronti di queste materie di cui il direttore parlava perché adesso verrà presentata più nel dettaglio l'offerta formativa e dopo come avete ricevuto via mail avrete l'occasione di ascoltare delle lezioni e le testimonianze degli studenti già scritti a Roma 3 durante questa mattinata avrete anche l'occasione di ricevere un attestato di partecipazione al termine dell'incontro scrivendo a ufficio.orientamento.chiocciolauniroma3.it tramite il delegato dell'orientamento della vostra scuola le lezioni che ci saranno dalle 10.40 alle 11.30 le avete ricevute via mail ci saranno tre appunto sezioni divisi per i corsi di laurea in Dams, in Filosofia e in Scienze della Comunicazione in tutti gli eventi verranno appunto registrati al fine di documentare e pubblicizzare l'avvenimento tra la scuola e l'università ovviamente ci sarà un grande salto che corrisponderà anche a un momento di maggiore autonomia per voi e di responsabilità perché ci sarà una diversa gestione del tempo inevitabilmente se seguire le lezioni o meno nessuno vi verrà a chiamare a casa sarete voi che dovrete diciamo frequentare il più possibile e diciamo cogliere tutte le opportunità che l'università vi offre come le borse di collaborazione le conferenze, le borse di studio gli eventi, i soggiorni di studio all'estero ecco fate in modo che il vostro percorso sia un unicum come vi racconteranno poi i nostri studenti allora i servizi che sono al vostro servizio sono molti e sono descritti tutti benissimo sul nostro sito sulle nostre brochure che trovate all'interno della sezione guide didattiche del sito però vi voglio raccontare rapidamente abbiamo tanti spazi per voi per studiare, per unirvi, per conoscervi le biblioteche in primo luogo dove potrete appunto sicuramente speriamo potrete rifrequentare presto il centro linguistico di Ateneo per poter poi permettervi sia diciamo avere le vostre idoneità di lingua obbligatorie in quasi tutti i corsi di laurea di Roma 3 ma anche per fare eventualmente degli studi all'estero magari partire per un anno con Borsa Erasmus ad esempio abbiamo Lazio Disco che è un'importantissima agenzia per il diritto allo studio che appunto eroga borse di studio con tributi di alloggio la possibilità di attivarvi per partecipare alle borse di collaborazione di Ateneo e quindi vengono bandite centinaia di collaborazioni per i nostri studenti che vi permettono di fare anche un'esperienza lavorativa all'interno delle nostre strutture tante iniziative anche ludiche e diciamo utili per il vostro diciamo corpo e per la vostra quotidianità quindi l'ufficio iniziative sportive la possibilità di partecipare alla Roma 3 Orchestra il coro polifonico Roma 3 Radio il Teatro Palladium di cui sicuramente poi i colleghi delle corsi di laurea parleranno perché afferiscono in particolare proprio questi bei servizi al nostro a questo dipartimento di cui stiamo oggi parlando e non vi lasceremo soli nel momento in cui anche dovrete lasciare l'Ateneo perché c'è un career service che vi accompagnerà anche nel mondo del lavoro parliamo un momento delle immatricolazioni a Roma 3 è il portale dello studente e le segreterie studenti che vi accompagneranno durante la carriera universitaria sin dalle vostre immatricolazioni per immatricolarvi a Roma 3 sono appena usciti i bandi di accesso per appunto iscriversi ai test e per potervi immatricolare poi a settembre allora vi invito ad andare su uniroma3.it all'interno del portale dello studente nella sezione ammissioni e immatricolazioni per scaricarvi il bando di accesso di vostri interesse e potervi già sin d'ora prescrivervi ai test che sono appunto previsti per accedere i test possono essere valutativi o a numero programmato lo leggerete però nel bando ecco io vi invito anche a orientarsi a Roma 3 che ci sarà dal 6 all'8 luglio che sarà una manifestazione anche per quest'anno online ci troverete su orientamento.uniroma3 con una piattaforma tutta aggiornata con nuovi eventi a cui partecipare se voleste conoscere meglio tutta l'offerta formativa di Roma 3 e con questo vi ringrazio davvero per la partecipazione ci aspettiamo le vostre domande sia via chat ora che appunto dopo durante le lezioni che ci saranno successivamente e lascio la parola al professore Aversano per la presentazione del corso di laurea in Dams Bene, buongiorno a tutti e a tutte grazie alla dottoressa Cavalletti per l'organizzazione di questa giornata tutto l'ufficio di orientamento e grazie al direttore professor Morozzo della Rocca per l'introduzione anche ai corsi Dams l'acronimo Dams come sapete vuol dire disciplina delle arti della musica e dello spettacolo ed è un acronimo relativamente giovane nella storia dell'università risale a 50 anni fa quest'anno si festeggia proprio il cinquantenario della nascita del Dams esattamente a Bologna 50 anni fa e il Dams di Roma 3 è il secondo Dams d'Italia cioè fondato poi dopo quello storico appunto bolognese ed è anche a livello diciamo di centralità nel panorama nazionale il Dams di riferimento per l'area centro-meridionale del nostro paese e si articola il nostro corso di studi triennale essenzialmente in due percorsi che sono il percorso sullo spettacolo dal vivo quindi teatro, musica, danza e il percorso sul cinema e sugli audiovisivi quindi cinema, televisione e nuovi media quindi anche l'aspetto mediale diciamo delle nostre discipline vi condivido subito il nostro sito per farvi vedere un po' direttamente di cosa si tratta nel frattempo vi dico che come è stato già ricordato dal direttore Roma è sicuramente la capitale non solo politica ma anche la capitale dello spettacolo della cultura in Italia ci sono presenti tantissime istituzioni importanti dall'auditorium al teatro dell'opera alla festa del cinema di Roma e al teatro di Roma e al teatro argentino insomma tutto quello che conoscete la RAI non dimentichiamoci insomma la radio e le televisioni tutte le strutture che un domani potranno accogliere gli studenti sia per l'effettuazione di chirurgia e di stace ma anche poi soprattutto quello che più ci interessa per poter essere avviati una carriera professionale allora spero che vediate a schermo tutto correttamente questo è il sito istituzionale del nostro corso di studi e qui vedete potete anche scaricarle comodamente la guida dell'anno diciamo in corso che però differirà di poco rispetto all'offerta didattica del 21-22 quindi potete tranquillamente far riferimento a questa per orientarvi all'interno delle discipline delle materie degli insegnamenti che vengono erogati offerti dal Dams vedete che ci sono diciamo c'è un'offerta articolata e vengono descritti in questa guida anche tutti tutte le strutture di riferimento del corso di studi gli sblocchi occupazionali che sono una cosa che fosse di interesse a questa serie di più sono diversi ne sono qui descritti abbastanza dettagliatamente e riguardano gli ambiti della produzione dell'organizzazione la gestione dello spettacolo l'ambito critico l'ambito ovviamente anche artistico e l'ambito delle nuove tecnologie anche del cinema e degli oddivisivi e dello spettacolo che sono un campo molto interessante e molto importante su cui il Dams ha anche diciamo un'offerta adeguata come vedrete poi nel dettaglio quindi il nostro corso di studi è sì umanistico ma non dimentica lo sguardo sulle discipline scientifiche soprattutto quelle che riguardano le nuove tecniche come detto le nuove tecnologie che sono molto importanti per lo spettacolo oggi per la produzione della televisione del cinema ma anche della musica e del teatro e della danza volevo ricordare anche la danza che è una parte importante della nostra offerta qui troverete questa guida dopo magari posso copiare il link pdf in chat trovate descritti tutti gli esami le discipline nel percorso teatro musica danza è dato ovviamente più accento al teatro alle discipline teatrali alle discipline musicali alle discipline coreutiche e nella parte dei laboratori viene dato largo spazio anche esperienze di tipo pratico con laboratori di arti dello spettacolo e anche diciamo a laboratori che riguardano attività didattiche che riguardano la formazione nel campo dell'organizzazione della gestione e della produzione dello spettacolo cioè tutto quello che concerne quello che succede tra il momento dell'ideazione artistica dello spettacolo e la sua poi presentazione in scena oppure sullo schermo c'è tutto un mondo diciamo che un ponte tra l'idea artistica e la sua realizzazione che rappresenta un momento sia molto interessante dal punto di vista culturale ma anche un'opportunità diciamo articolata di professionalità che servono di specializzazione che serviranno un domani per poter lavorare in questo campo il Dams ha anche molti rapporti con tutte queste istituzioni esterne che sono di grande importanza nella formazione degli studenti quindi cerchiamo di stradarli attraverso tirocini e stace presso le istituzioni più importanti che ho già citato e dunque questo percorso attraverso l'università nell'università va affiancato ovvero vi invito solo a considerare questa cosa quando sarete spero studenti dell'università Roma 3 va affiancato da una continua attenzione al contatto con il mondo del lavoro quindi attività esterne attività culturale che adesso vedremo molto brevemente questo è il percorso cinema, televisione e nuove e media di cui ho già parlato con grande spazio chiaramente a queste discipline e con tantissimi esami interessanti che non posso enumerare per ragioni di tempo e invece volevo farvi vedere molto brevemente sempre le attività ecco che affiancano la formazione al DAMS che non è soltanto una formazione teorico-critica ma anche una formazione pratica sia pure in relazione diciamo anche al momento di approfondimento più teorico quindi vedete qui ci sono tutti i laboratori sulla destra potete vederli insomma ne apro uno per far vedere cosa si tratta ecco questa è tutta l'offerta di laboratori molto ampia che abbiamo e soprattutto anche diciamo oltre alle attività cosiddette curricolari c'è un'ampia scelta di attività formative artistiche e culturali che sono di grandissimo diciamo sono un grandissimo contributo alla vostra formazione abbiamo già citato il teatro pallario in Roma tele-radio un pallario film festival biblioteca di scienze musicali e coretrici la jazz band il centro produzione audiovisivi e un laboratorio di tecnologie musicali e potete anche qui da soli se volete approfondire un po' di spazio in più voglio dedicare proprio alla struttura del teatro pallarium su questo canale youtube che spero stiate vedendo adesso in diretta che è il canale del Dams oltre alla presentazione del teatro dell'università che sto per lanciare un piccolo video di un minuto e venticirca trovate anche le presentazioni più estese di tutti i percorsi quindi potete andare qui e conoscere più da vicino con più agio di tempo rispetto a quanto io non abbia potuto fare la nostra offerta formativa e didattica quindi lancio questo video con cui chiudo anche la mia presentazione che descrive le attività del teatro pallarium che è il teatro di Roma 3 ma è anche soprattutto un posto in cui i nostri studenti possono approfondire sperimentare imparare diciamo e avviarsi anche al mondo delle professioni e oltre al teatro pallarium qui trovate anche la presentazione della sede e delle lauree magistrate qualora siate interessati quindi lancio questo video e poi cederò la parola subito dopo al collega Chiara Donna che è il coordinatore didattico del del corso di studi in filosofia io sono Luca Versano e coordinatore didattico appunto dei corsi di studio Dams in filosofia e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille, io mi presento, sono Riccardo Chiaradonna, insegno storia della filosofia antica all'Università di Roma 3 e sono il coordinatore didattico del corso di studio in filosofia, che vi vorrei presentare brevemente e condividendo insieme a voi un breve PowerPoint che riguarda sia l'opportunità di iscriversi in questa disciplina nel 2021, sia anche l'opportunità di farlo a Roma 3. Quindi adesso attivo senz'altro la condivisione di questo PowerPoint. che dovreste che dovreste vedere. Allora, il corso di laurea in filosofia di Roma 3 è un corso di laurea giovane che è dedicato in realtà a una disciplina antichissima. La disciplina, la filosofia è in effetti una delle discipline più antiche della storia umana. È una disciplina vecchia quanto lo studio stesso della, lo studio stesso superiore. Ed è una disciplina che nel corso dei millenni ha ottenuto, ha avuto una strana sorte, quella di essere una disciplina sempre messa in questione e tuttavia estremamente vitale, che ha sempre saputo reinventarsi dall'epoca dei sofisti di Platone e di Aristotele a seconda delle esigenze e delle nuove situazioni culturali che ha attraversato. E questo credo che valga anche oggi. La filosofia ha questa caratteristica principale, quella di affinare il pensiero critico, ossia quello di sviluppare la capacità di porre problemi, analizzarli attraverso l'argomentazione, ragionare, selezionare le informazioni, avere una retroterra culturale che permette di porsi davanti a problemi e situazioni con una consapevolezza, una flessibilità critica che aiuta in modo determinante a risolverle. Perché studiare filosofia a Roma 3 e non altrove? Roma 3 è un'università recente, un'università di circa 30 anni. È un'università caratterizzata da un rapporto molto stretto tra docenti e studenti. È un'università che, essendo radicata in un territorio ben preciso, ha tuttavia una forte apertura anche internazionale. Noi a filosofia, per esempio, nella laurea magistrale, abbiamo due titoli internazionali, due titoli di studio internazionali che permettono di conseguire un doppio diploma. In logica matematica con l'università di ex Marseille e in storia della filosofia con la Sorbona di Parigi. E oltre a questo, la filosofia, come ha insegnato a Roma, coniuga uno studio di tipo tradizionale, di cui parleremo tra un po', con un'ampia quantità di laboratori, attività, tirocini, che permettono di collegare lo studio della filosofia al mondo presente. Vengo a un altro punto che spesso suscita, ovviamente, interrogativi, ossia che cosa succederà nel momento in cui io mi iscrivessi a filosofia. Bene, la filosofia è una disciplina che ha degli sbocchi assolutamente tradizionali, che sono sbocchi importanti, come l'insegnamento e la ricerca. Una volta conseguita la laurea magistrale, attraverso dei percorsi appositi, si può o insegnare filosofia nelle scuole secondarie superiori, oppure, qualora si sia particolarmente bravi, motivati e si abbiano una capacità, iniziare il percorso della ricerca. Ma la filosofia, in realtà, chi studia filosofia è anche, spesso segue carriere diverse, come ad esempio l'impiego nelle risorse umane, in organizzazioni non governative, il mondo del giornalismo, dell'editoria, anche il mondo delle imprese. Capita infatti molto spesso che uno studente in filosofia che ha conseguito la laurea magistrale in filosofia, con ad esempio un master supplementare, poniamo i risorse umane, possa svolgere delle belle carriere in questi ambiti, in questi ambiti lavorativi. Qui trovate dei link, io poi per coloro che sono interessati condividerò senz'altro questo PowerPoint nella riunione dedicata alla lezione di filosofia, che vi permette di avere maggiori informazioni. Tutte queste informazioni che io vi ho dato ci permettono, io credo, di andare un po' più nello specifico del corso di studio di Roma 3. La dottoressa Cavalletti vi ha già fatto presente il bando di ammissione, il bando di ammissione che è stato da poco pubblicato. Potete trovare facilmente online le indicazioni relative ai corsi e sono tutte molto ben visibili nella pagina di filosofia Roma 3. Qui trovate gli avvisi, le informazioni sul piano di studi, le informazioni sui laboratori. Anche filosofia ha un'attività laboratoriale, volta allo studio e alla comprensione dei testi, ha un apprendimento che non sia assolutamente solo limitato alla lezione frontale, ma prevede una partecipazione attiva da parte degli studenti, una partecipazione che passa per esempio per l'elaborazione di testi scritti, per la discussione di testi scritti, passa per l'internazionalizzazione. Il vero territorio di un'università non è il posto dove l'università si trova fisicamente, è potremmo dire il mondo in qualche modo, il mondo stesso delle comunità scientifiche di ricerca. Roma 3 ha una ricca serie di scambi Erasmus e ha due titoli internazionali, come vi dicevo, e oltre a una fitta rete di collaborazioni con istituzioni anche al di fuori dell'università. Io non andrei tanto nei dettagli, per esempio, della compilazione del piano di studio, perché la compilazione del piano di studio è un addentimento formale che si svolge nella prima parte dell'anno accademico, entro dicembre, e noi abbiamo attivato un tutorato specifico per la compilazione del piano di studio. Quindi quello che direi soltanto ai giovani studenti che si stanno per iscrivere è di visitare le nostre pagine, visitare e entrare dentro le varie notizie che riguardano i corsi. Vedranno come filosofia non è una disciplina in senso stretto umanistico, è una disciplina, vi ricordo, che tutte le scienze sono nate in qualche modo dalla filosofia. E Roma 3 ha mantenuto questa impostazione di strettissima collaborazione tra il sapere filosofico e la molteplicità del sapere. Il sapere storico, io sono uno storico della filosofia, ma anche il sapere scientifico, abbiamo un fortissimo gruppo di filosofia della scienza e di logica, il sapere politico sulla collaborazione con docenti di giurisprudenza e con tutta la discussione sul dibattito attuale sulla politica, sulla globalizzazione, su quello che tutto ciò comporta, l'estetica, insomma tutta la molteplicità del sapere umano è suscettibile di essere analizzata filosoficamente e il nostro corso, proprio nel suo essere rivolto al presente oltre che al passato e con la sua apertura internazionale, oltre che ovviamente ben radicata nel territorio di Roma, ritiene di poter soddisfare questi requisiti. Tra pochi istanti lascerò la parola alla collega Francesca Iannelli, che è la coordinatrice di Scienze della Comunicazione, ovviamente sarò molto felice di rispondere a tutte le vostre domande, più nel dettaglio, nella lezione che seguirà immediatamente questa presentazione. Lascio quindi la parola alla collega Francesca Iannelli, coordinatrice del corso di Scienze della Comunicazione. Grazie, grazie a Riccardo Chiaradonna, vi ringrazio per essere qui collegati, vi saluto tutti e tutte, desidero innanzitutto condividere delle riflessioni preliminari, soprattutto con quegli studenti, con quelle studentesse, che desiderano iscriversi al corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Poi entreremo più nel dettaglio dell'offerta formativa e ovviamente anche considereremo quelli che sono gli sbocchi professionali. Innanzitutto, ecco, partirei dalla constatazione che in un'epoca come la nostra, un'epoca ipertecnologica e social addicted, di fatto non basta più voler comunicare, che è un desiderio tipico della natura umana, dell'essere umano, fin dagli inizi, ma è sempre più necessario saper comunicare. E d'altra parte, questo esperimento collettivo al quale siamo stati forzati dall'emergenza pandemica ci ha mostrato come di fatto bruscamente in tanti contesti, dalla politica all'educazione, dal mondo dello spettacolo alla medicina, improvvisamente i canali comunicativi tradizionali siano stati abbandonati per sperimentare nuovi linguaggi, come stiamo facendo anche noi questa mattina. e dunque ecco quello che è emerso sicuramente in questo periodo di emergenza è che la comunicazione non consiste soltanto nel trasferire dei contenuti, delle informazioni, ma è sempre molto importante adeguare le informazioni, i contenuti alle esigenze del nostro tempo. e dunque ecco la nostra società era già fortemente dipendente e monopolizzata dai social e forse ecco voi giovani studenti e studentesse lo sapete meglio di noi e d'altra parte la pandemia ha stravolto la comunicazione nell'ultimo anno e ha sempre più dematerializzato la nostra esistenza. è quello che posso dire e credo sarei d'accordo con me in questo che siamo proprio nel mezzo di una rivoluzione comunicativa globale e questo chiaramente rende imprescindibile saper distinguere una comunicazione virtuosa da una comunicazione ingannevole o disgregante e destabilizzante sia per il singolo che per la società. chiaramente per orientarci in quell'oceano di notizie, di informazioni ma anche di fake news che ci bombardano ogni giorno è importante, è indispensabile saper sviluppare un sapere critico e in questo credo che il nostro corso di laurea in scienze della comunicazione costituisca sicuramente un valido alleato e vi potrà supportare in quel processo di consapevolezza e di crescita che sicuramente andrete ad intraprendere se vi iscriverete al nostro corso. Entro più nel dettaglio di quello che di fatto è il corso di scienze della comunicazione a Roma 3 vedrete anche consultando il nostro sito istituzionale così come i nostri canali social ossia Comunica3 su Instagram e su Facebook che il corso è fortemente interdisciplinare e che alle nostre studentesse ai nostri studenti vengono fornite nei primi anni quindi nei tre anni della laurea triennale una serie di conoscenze in ambiti variegati che vanno dalla logica alla psicologia al marketing alla linguistica per dominare in una sinergia transdisciplinare le strategie comunicative e per poi anche ovviamente riempirle di profondi contenuti filosofici, storici, letterari o etici. Dunque è un corso sicuramente molto versatile molto ricco e come dicevo vi prepara attraverso la interdisciplinarità ha una capacità di pensare in modo sempre più flessibile e trasversale e per quel che concerne con gli sbocchi occupazionali chiaramente anche la figura del professionista che esce dalla nostra laurea triennale è molto eterogenea e quindi prepariamo ecco attraverso questi tre anni di formazione degli studenti, delle studentesse che saranno in grado di esercitare tutte le professioni che vedono nella comunicazione il loro cuore pulsante penso ad esempio a professioni come il social media manager o l'organizzatore di eventi così come l'addetto stampa o l'addetto alle pubbliche relazioni quindi ecco un profilo sicuramente molto molto variegato d'altra parte sono consapevole che in questo momento voi state riflettendo su una scelta di vita molto importante e che dunque è anche prezioso avere un quadro generale più globale e non focalizzarsi soltanto sulla laurea triennale che certamente è la scelta immediata che voi andrete ad intraprendere e a fare però d'altra parte va considerato anche che abbiamo due lauree magistrali e che si tratta di due lauree che vanno a preparare profili professionali diversi innanzitutto parlo dunque del laurea magistrale in informazione, editoria e giornalismo si tratta di un corso di laurea che mira a formare delle figure di professionisti capaci di gestire e di produrre informazione in senso lato quindi a partire chiaramente dal giornalismo tradizionale generalista o specifico fino ovviamente all'editoria in senso più ampio e in tal senso ecco può essere significativo ricordare che uno dei focus di questa laurea magistrale in informazione, editoria e giornalismo è stato negli ultimi anni proprio il focus sull'editoria digitale penso sarà sicuramente di vostro interesse perché le giovani generazioni sono ovviamente più legate alla fruizione degli ebook o anche ecco degli audiolibri e d'altra parte penso può essere interessante anche riportare questo dato sull'editoria digitale che quindi ecco è un focus di questa laurea e ricordare che in un anno di crisi un anno nero come il 2020 molti settori sappiamo purtroppo nel nostro paese hanno subito una fase di decrescita mentre invece l'editoria digitale ha avuto un incremento significativo del 2,4% dunque ecco è un settore quello delle digital humanities in generale e dell'editoria digitale sicuramente in espansione e in crescita e dunque penso anche di interesse per molti di voi oltre a ciò l'altra laurea magistrale di cui desidero darvi qualche breve informazione ma poi ecco vi invito ovviamente a visitare il sito e i nostri profili social ecco l'altra l'altra laurea è la laurea in scienze cognitive si tratta chiaramente di una laurea con una vocazione sperimentale più accentuata rispetto alla laurea in informazione editoria e giornalismo ma d'altra parte va anche detto che pur avendo degli insegnamenti come l'insegnamento di filosofia della mente e del cervello o un insegnamento come la neuroetica o l'intelligenza artificiale d'altra parte però ecco è anche un corso di laurea che pratica e concepisce degli sbocchi applicativi significativi penso per esempio ecco a una delle tante discipline ecco che di fatto vengono poi ecco anche insegnate e poi ecco offrono degli sbocchi occupazionali significativi ecco penso per esempio al neuromarketing ossia quella disciplina che studia le risposte del cervello all'input del marketing e quindi ecco anche può costituire sicuramente uno sbocco professionale interessante oltre a quello ovviamente della ricerca che è lo sbocco più naturale di una laurea magistrale in scienze cognitive e detto questo ecco sicuramente sarà già emerso quanto il termine comunicazione sia un termine umbrello un termine elastico sotto al quale possiamo ricondurre attività discipline e sbocchi professionali molto diversi molto eterogenei e d'altra parte però ecco possiamo anche cercare di sforzarci di ricondurre il mondo l'universo del proteiforme della comunicazione ad unità e volendo far questo ecco direi che un aiuto un suggerimento ce lo offre proprio il filosofo tedesco Immanuel Kant in un saggio che è questo qui che cosa significa orientarsi nel pensiero nel quale conclude con una riflessione sulla comunicazione molto interessante per cui se non abbiamo la libertà di comunicare non abbiamo neanche la libertà di pensare il che sta a significare a mio parere che il pensiero il pensare che sembra un'attività così eremitica un'attività così solitaria in verità è sempre anche un esercizio plurale un esercizio collettivo che prevede sempre appunto un rapporto di comunicazione profonda con l'altro anche se purtroppo l'altro come in questo momento è un altro virtuale ma che d'altra parte appunto sicuramente ecco come sarà successo e succederà questa mattina darà tanti input e suggestioni da condividere e quindi ecco vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola alla dottoressa Cavalletti grazie grazie a lei professoressa e grazie a tutti per le presentazioni e speriamo insomma che sicuramente abbiamo suscitato dei dubbi e delle domande il che ai fini dell'orientamento è assolutamente positivo come dicevo all'inizio quindi grazie per tutte le vostre domande come vi spiegavo questa abbiamo cercato di rispondere insieme ai colleghi delle segreterie didattiche che saranno diciamo i vostri angeli custodi poi una volta iscritti a insomma a questo dipartimento con cui dovrete confrontare vi potrete confrontare durante tutto il vostro percorso perché appunto le segreterie didattiche sono appunto fondamentali per i piani di studio per conoscere tutti i dettagli della didattica quindi a questo punto io vi invito caldamente a partecipare alle diciamo lezioni alle sessioni che si apriranno adesso in tre diciamo stanze virtuali parallele una per il corso di laurea in Dams una per il corso di laurea in filosofia e una per il corso di scienze della comunicazione vi invito a fare una riflessione quindi è un momento di orientamento questo che vi chiediamo di fare una scelta una prima scelta ovviamente potete anche se volete partecipare per una parte ad una sessione di un corso di laurea e poi spostarvi ad un'altra nessuno ve lo vieta però sicuramente cercate di capire qual è diciamo il corso di laurea che in questo momento vi interessa più seguire di cui volete avere più informazioni perché ci saranno all'interno delle varie sessioni delle lezioni diciamo delle mini lezioni delle un assaggio diciamo di quello che potrete ascoltare frequentando quel corso di laurea la testimonianza degli studenti iscritti a Roma 3 e soprattutto lo spazio per un dibattito con voi diretto quindi sarete chiamati se volete a parlare attraverso il microfono o addirittura con la telecamera perché sono appunto delle riunioni un pochino più interattive d'accordo quindi vi invito a cogliere l'occasione oltre che ovviamente continuare a scrivere via chat e cercheremo insomma anche lì di rispondere alle vostre domande quindi buon proseguimento buon incontro grazie per la vostra numerosa partecipazione e ci vi aspettiamo a Roma 3 grazie essere consapevoli dei processi di mediazione tecnologica non significa soltanto essere consapevoli del rapporto che intercorre tra una cinepresa o una fotocamera in questo caso e un soggetto che viene ripreso ma significa essere consapevoli del modo in cui le immagini e i suoni vengono organizzati dando una forma particolare alla nostra esperienza percettiva quella dell'audiovisivo è un'esperienza che è sempre innanzitutto percettiva sensoriale riguarda ciò che vediamo ciò che sentiamo ma anche del modo in cui questa esperienza è progettata narrativamente e realizzata tecnologicamente va bene perché non si tratta soltanto di immagini e suoni ma si tratta di immagini e suoni organizzati intorno a una struttura narrativa che guardate non è banale ed è un oggetto di studio peraltro è un oggetto che evolve nel tempo per cui 50 anni fa erano dominanti strutture narrative cioè tipi di racconto diverse da quelle dominanti oggi ad esempio è realizzata tecnologicamente questa esperienza è realizzata tecnologicamente prende corpo attraverso una serie di strumenti tecnologici che pure come sapete bene evolvono con il tempo ed è la ragione per cui alle immagini di 50 anni fa noi di solito reagiamo diversamente rispetto alle immagini e ai suoni realizzati oggi perché la tecnologia cambia e quindi cambia il modo in cui un'esperienza audiovisiva prende corpo nel corso del tempo studiare tutto questo significa studiare in che modo cambia il gusto del pubblico ad esempio normalmente persone molto giovani oggi fanno più fatica ad apprezzare i film di 50 anni fa di quanto non faccia fatica già soltanto io che ho avuto una formazione audiovisiva diversa cambiano gli immaginari ci sono dei tipi di cinema dominanti presso ad esempio gli studenti universitari che incontrano maggiormente il gusto degli studenti universitari in un determinato periodo oggi rispetto a 30 anni fa sicuramente questi immaginari sono cambiati studiare cinema significa anche studiare questo tipo di evoluzione del gusto e delle dominanti culturali significa inoltre cambiare vedere come cambia ad esempio il senso del verosimile ci sono delle convenzioni formali narrative che noi oggi diamo per scontate le consideriamo verosimili non ci disturbano mentre vediamo un film mentre ci disturbano ci appaiono innaturali quelle di 50 anni fa e molto probabilmente a persone che fra 50 anni saranno studenti universitari sembreranno strane obsolete le convenzioni narrative o formali del cinema di oggi va bene allora studiare cinema significa studiare tutto questo significa comprendere come funziona tutto questo nel presente significa comprendere come ci siamo arrivati significa comprenderne la storia e l'evoluzione significa capire quindi in che modo per esempio il cinema interagisce con la cultura visuale cioè con i tipi di immagini o con i modi in cui siamo abituati a vedere determinati oggetti o fenomeni e come il cinema interagisce con la storia dei media va bene sempre più vediamo ad esempio schermi di cellulari o di smartphone nel cinema degli ultimi decenni perché perché questi sono degli schermi che sono diventati pervasivi sono diventati parte integrante della nostra esperienza anche quotidiana il cinema le integra magari le rielabora però sicuramente è in costante dialogo con la cultura mediale di un'epoca quindi studiare il cinema significa anche capire o avere un osservatorio privilegiato che riguarda il modo in cui le persone anche al di fuori della sala percepivano il mondo attraverso la mediazione delle immagini dei suoni delle tecnologie naturalmente studiare cinema e concludo con questa premessa significa anche capire in che modo l'arte cinematografica interagisce con le altre arti va bene nell'uno e nell'altro senso con la letteratura con la musica con le arti visive con le arti performative eccetera 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 va bene allora il cinema di Stanley Kubrick è a me sembra sempre un osservatorio privilegiato per più che dare risposte e anche più che per dare un'idea seppur vaga per porre delle domande che sono poi le domande a cui un corso di laurea triennale come quello del Dams cerca di rispondere allora farei questo io a questo punto vorrei condividere il mio schermo ho preparato una slide di di powerpoint che che vi condivido per cominciare appunto a porre qualche problema porre qualche domanda a partire da il caso di Stanley Kubrick ma come vi accennavo prima mi concentrerò per ragioni di brevità su un film in particolare che ho già menzionato e che è 2001 Odissea nello spazio 2001 di Se nello spazio è un film di fantascienza che ha una sua complessità eppure paradossalmente stranamente io ancora non me lo spiego questo fenomeno è molto noto ha avuto una particolare capacità di impatto sull'immaginario collettivo è molto molto citato nei cartoni animati nei videogiochi nei film di fantascienza successivi e quindi in un modo o nell'altro è un come dire è un film che ci è familiare pur nella sua complessità pur nel suo voler essere in realtà una meditazione filosofica sull'evoluzione dell'umanità della coscienza umana sul rapporto fra l'umano e il cosmo fra l'umano e il divino e molto altro peraltro 2001 di Se nello spazio da dove potrei partire potrei partire forse da questo occhio va bene chi ha visto il film sa che si tratta appunto dell'unico elemento visibile di quella intelligenza artificiale che guida l'astronave in uno degli episodi di questo film e che viene chiamato al 9000 va bene chi conosce il logo del grande fratello sa o forse può immaginare o forse ha riconosciuto che l'occhio che funziona come logo della trasmissione televisiva grande fratello è erede di questo occhio di questo occhio rosso che è l'occhio di al 9000 che ha una particolarità chi conosce il film lo sa chi non conosce il film magari si incuriosisce è l'intelligenza che guida un'astronave non la vediamo è soltanto una voce è una voce diffusa quindi noi nel film vediamo degli astronauti in carne ed ossa che abitano l'astronave e poi sentiamo la voce di questa intelligenza artificiale di questo computer che interagisce con gli umani ma non lo vediamo vediamo soltanto un occhio per l'appunto sparso fra i molti schermi e i molti comandi dell'astronave in realtà non è solo un occhio sono molti occhi è interessantissimo vedere nell'episodio che ha per protagonista al 9000 come in un angolo dell'inquadratura talvolta in primo piano ma qualche volta appunto ai margini o sullo sfondo l'astronave risulti piena di occhi di al 9000 che quindi è un pochino un essere che non ha corpo perché è soltanto una voce ma allo stesso tempo ha molti occhi che sorvegliano non mi sembra un caso che la figura dell'occhio di al 9000 sia stata scelta come logo per un programma che si chiama Il Grande Fratello è onnipresente diciamo sì esatto esatto allora qual è la cosa che a me pare interessante e che è già un problema di regia ecco la cosa che mi pare interessante di nuovo chi conosce il film lo sa ma può essere interessante andarlo a vedere per chi non lo conosce è che nel dialogo nelle interazioni tra queste entità incorporea che neanche vediamo e sappiamo essere un computer e gli esseri umani che sono gli astronauti presenti dentro l'astronave noi finiamo per parteggiare e per sentirci più vicini al computer che nemmeno vediamo che non agli esseri umani presenti va bene è un'opzione di regia dicevo primo voi pensate per un regista quanto può essere complesso realizzare il dialogo cioè piazzare la cinepresa per restituire il senso del dialogo fra degli esseri che si vedono che hanno un corpo e un'entità che non si vede non si può fare il solito campo e contro campo bisogna adattare la messa in scena a questa a questa particolarità ora quello che mi sembra però ancora più potente nella messa in scena di Kubrick è che Kubrick attraverso una serie di opzioni appunto formali narrative tecnologiche riesce a farci percepire questo essere che non vediamo come un personaggio a tutto tondo un personaggio che ha una coscienza come la nostra e ci appare questo molto più di quanto non ci appaia per esempio la coscienza degli astronauti gli astronauti sono degli esseri umani ci somigliano sono degli esseri come noi eppure grazie alla forma cioè grazie alla mediazione tecnologica che è il problema che ho voluto introdurre noi siamo portati a portare a portare la nostra simpatia la nostra preoccupazione la nostra ammirazione insomma il nostro coinvolgimento stando dalla parte del computer quasi più che dalla parte degli astronauti come succede questo guardate esiste nel film tutto un meccanismo di diminuzione di svalutazione dell'umano allora è preparata è evidente che non è automatica la partecipazione non è automatica nemmeno l'attribuzione di coscienza a un essere che sappiamo essere un computer e che non vediamo neanche però ad esempio guardate come sono trattati gli esseri umani allora uno dei due astronauti fa disegni ma lo vediamo che ritrae chi sono quei tre esseri sono tre astronauti che sono stati ibernati va bene che quindi hanno sono tecnicamente sono in coma va bene sono degli esseri non viventi in quel momento o che hanno una vita che è ridotta alle più basilari funzioni biologiche ecco già il fatto che un'arte viva come quella del ritratto vada ad avere come oggetti tre esseri indistinguibili fra loro immobili ci porta un po' lontani dalla partecipazione a quello che sta facendo il primo dei due astronavi David in più guardate la seconda inquadratura nella seconda inquadratura quella al centro noi continuiamo a vedere David che realizza i suoi disegni ma Chubrick è molto attento a tenere in campo l'altro astronauta non ibernato quello che fa compagnia a David cioè Frank mentre dorme non c'è praticamente differenza tra gli esseri ibernati e un essere che sta un essere non ibernato ma che sta dormendo allora c'è questa continua finalizzazione dell'essere umano questa diminuzione per così dire delle sue capacità mentali molto spesso noi non assistiamo a particolari azioni o performance intellettuali di questi personaggi va bene i quali peraltro appunto si muovono all'interno di un ambiente che non sembra fatto a misura d'uomo guardate la terza inquadratura non so se si nota ma l'astronave in questo ambiente è internamente circolare e molto spesso il film ci mostra questi personaggi a testa in giù o comunque come dominati ecco dalla struttura spaziale molto piccoli e dopo forse vedremo un esempio guardate questo dialogo tra Al 9000 e David che ha realizzato i suoi disegni come vedete è il campo contro campo tra questo oggetto circolare è un occhio ma è al limite al limite della visibilità nel senso che è una forma geometrica non è un corpo spesso in questo occhio si riflettono i corpi che gli stanno davanti ma lui non è un corpo è molto difficile sembra molto difficile poter provare simpatia per questo personaggio eppure alla fine succederà alla fine succederà e guardate nell'inquadratura di sotto c'è David che mostra all'occhio di Al il disegno e come vedete per marcare questo punto di vista non umano questo punto di vista tecnologico appunto non antropomorfo ma direi tecnomorfo Kubrick utilizza il fisheye che è un obiettivo appunto che deforma lo spazio e che sembra ridurre appunto lo spazio che noi conosciamo a una forma a una forma deformata appunto di sicuro è un obiettivo che non corrisponde allo sguardo all'esperienza che noi facciamo quando ci guardiamo intorno nello spazio ecco la mediazione tecnologica può imitare il modo in cui noi siamo abituati a percepire lo spazio il tempo le relazioni con gli altri eccetera oppure può distorcerlo talvolta lo distorce in maniera evidente è il caso dell'uso del fisheye per marcare l'occhio non umano di Al 9000 in altri casi lo deforma in una maniera meno appariscente allora abbiamo l'impressione di trovarci di fronte a una messa in scena che somiglia al modo in cui noi percepiamo lo spazio il tempo le relazioni con gli altri ma ad andare a guardarla bene a fare cioè l'analisi che è una delle cose che si impara a fare nei nostri corsi di studi è molto interessante vedere come la nostra partecipazione viene piegata orientata in maniera magari invisibile in modo da portare il nostro coinvolgimento sulle vicende di un personaggio piuttosto che sulle vicende di quell'altro va bene questo è un esempio di quello che vi dicevo prima guardate ci sono inquadrature in questo film che contribuiscono a ridimensionare la centralità dell'umano questo è un film appunto che lavora sulla decentramento dell'essere umano e guardate nella prima inquadratura in alto a sinistra che è realizzata secondo un asse che è orizzontale non è quello normalmente verticale che corrisponde alla nostra posizione nello spazio e guardate vediamo capovolto e piccolissimo uno dei due astronauti seduto a tavola che sta mangiando va bene qualcosa del genere nella seconda nella terza e nella quarta inquadratura vedete deformato il riflesso del personaggio di David che si avvicina ad al 9000 guardate come sono piccoli i personaggi guardate come non sono mai al centro dell'inquadratura non sono i padroni dello spazio e lo spazio non è costruito a loro misura ecco è molto facile che se i personaggi sono trattati visivamente narrativamente in questo modo forse noi saremo portati a non provare grande simpatia per loro almeno fino a un certo punto queste sono alcune foto di scena che ci danno la consapevolezza di come tutto questo è stato realizzato come si realizzava in un'epoca in cui si lavorava evidentemente in analogico come si realizzava un set circolare ecco è abbastanza noto il fatto che Kubrick abbia utilizzato per quelle inquadrature un set detto la centrifuga molto costoso costosissimo a dire il vero una delle parti più costose del film e molto spesso l'assenza di gravità era simulata dal posizionamento della cinepresa all'interno di un set di questo tipo circolare a sinistra vedete il set dall'esterno a destra due foto di scena che ci fanno vedere come questa circolarità fosse reale e creasse evidentemente una serie di problemi agli scenografi oltre che al direttore della fotografia va bene questo è un altro esempio ma molto rapidamente perché voglio procedere un altro esempio di come un evento che magari avrebbe potuto essere trattato in maniera diversa viene raccontato da Stanley Kubrick va bene ci troviamo all'interno dell'astronave i due astronauti stanno guardando un servizio televisivo della BBC che racconta dell'importanza della loro missione potrebbe essere un momento eroico per così dire oltre che narrativamente importante perché con questo espediente Kubrick dà a noi spettatori qualche informazione importante per seguire la narrazione le informazioni ci arrivano noi alla fine di questa scena sappiamo qualche cosa di più sulla missione che questa astronave sta compiendo verso Giove però guardate come è realizzato visivamente e in che modo di nuovo l'umano i due personaggi che sarebbero un po' i protagonisti cioè i due astronauti vengono marginalizzati abbiamo Frank ripreso dall'alto secondo un'angolazione che non è quella nostra abituale appunto cioè all'altezza dell'occhio umano questo già ci produce una distanza emotiva oltre che percettiva e tra l'altro lo schermo che trasmette il programma della BBC è affiancato a questo vassoio pieno di cibarie di cui non riusciamo neanche a immaginare il gusto non ci viene nessuna colina in bocca non riusciamo a partecipare nemmeno al suo gesto più semplice che quello di nutrirsi a questo segue un tipo di inquadratura completamente diversa la plancia vuota non c'è nessuno al comando non c'è nessuno seduto sulle poltrone e c'è una serie di schermi che tra le varie informazioni mostrano anche il servizio televisivo accanto c'è l'occhio di uno dei tanti occhi di al 9000 che vediamo sparsi per l'astronave sulla destra vedete un'altra inquadratura questa si centrata intorno alla percezione di al sulla quarta sulla quinta inquadratura addirittura il primo piano quel primo piano che viene negato agli organismi viventi è dedicato invece a uno degli astronauti ibernati va bene si crea cioè una specie di analogia oppure di indifferenza tra l'essere vivente che sta mangiando e guarda la televisione assorto immobile e l'essere ibernato va bene un trattamento visivo simile è riservato come vedete all'ultimo fotogramma anche a David l'altro astronauta allora capite c'è tutta una strategia che fa sì che questo film che pure è rappresentato come un dramma epico di avventura ed esplorazione diventi un film che ci parla del progressivo decentramento degli esseri umani all'interno del cosmo ma questa cosa non viene detta Kubrick ce ne fa fare l'esperienza ci ritroviamo verso la fine il film è diviso in quattro episodi ecco durante il terzo episodio noi ci ritroviamo improvvisamente ad esserci un po' disabituati ad avere come riferimento forte un personaggio protagonista umano ci siamo abituati invece al decentramento di queste figure umane ci siamo abituati a condizioni percettive in assenza di gravità in assenza di suono perché nello spazio non si diffonde il suono in molti episodi il suono noi non lo sentiamo ci siamo abituati appunto a un tipo di racconto che è un po' diverso non è tanto il dramma epico vissuto dai personaggi è un dramma epico vissuto da noi da noi spettatori va bene qui è molto importante che questa specie di viaggio di questo trip che il film ci fa compiere questo viaggio di esplorazione che parte dalla terra e arriva alla terra passando per la luna e per giove e poi per una porta stellare che ci conduce in un'altra dimensione ecco è molto importante che fosse realizzato in Cinerama il Cinerama era uno dei primi formati panoramici qui ne vedete una una dimostrazione d'epoca originariamente l'inquadratura larga era ottenuta attraverso tre proiezioni sincronizzate su uno schermo curvo all'epoca di 2001 di Sera lo Spazio i proiettori non erano più tre però lo schermo era curvo lo schermo ideale era curvo era quello per proiettare i film in Cinerama doveva essere un grande evento e in effetti così fu presentato perché le prime visioni di questo film avevano luogo in grandi film in grandi cinema spesso urbani con diciamo delle ottime proiezioni addirittura un overture e un intervallo durante cui venivano diffuse nella sala delle musiche si trattava di un grande evento quasi come se si trattasse di un evento operistico oppure di un grande evento di spettacolo dal vivo ma si trattava di questo era un tipo di distribuzione che veniva chiamato road show release poi dopo queste poche tutto sommato proiezioni che costavano evidentemente di più si passava alla diffusione più normale per le sale che non avevano una ricchezza tecnologica di questo tipo normalmente il Cinerama era utilizzato per i documentari oltre che per i grandi film epici spesso episodi per esempio biblici oppure ad esempio western epici in episodi come la conquista del west ma era utilizzato spesso proprio per le sue capacità immersive avete questo schermo curvo che garantiva un tipo di esperienza sensoriale immersiva era spesso utilizzato per i documentari di viaggio va bene allora non stupisce che le prime immagini che in realtà riguardano ciò che precede della conquista dello spazio riguardano l'alba dell'uomo cioè il modo in cui delle scimmie antropomorfe cominciano ad avere coscienza di sé e degli altri del tempo e della storia ecco le prime immagini partono da queste vedute africane adesso non abbiamo moltissimo tempo quindi non sto a dirvi di come sarebbe interessante capire come sono stati realizzati questi set cominciamo con Angelica di Giustili eccomi scusate eccomi penso mi vedete stavo partecipando alla chat per rispondere a qualche domanda allora io mi sono laureata del percorso teatro musica e danza a novembre e ora sto preseguendo il percorso nella magistrale e quando mi sono iscritta al dance tre anni fa io non volevo fare l'università mi hanno obbligato i miei io proprio non volevo lo dico ridendo perché penso che magari qualcuno si trova nella mia stessa situazione perché ho scelto il dance perché avevo fatto un'accademia di teatro e quindi appunto avevo l'interesse a continuare in questo campo e quindi ho scelto il dance appena mi sono iscritta mi sono subito ricreduta avevano ragione i miei ecco perché il dance è diventata la mia seconda casa e la mia seconda famiglia uno dei punti di forza della nostra università è che riusciamo sempre a creare un legame e un rapporto con ogni singolo docente che è una cosa che non è scontata e ovviamente si creano anche rapporti tra noi studenti che sfociano poi in collaborazioni esterne di cui vi parlerà la mia collega di cinema tra poco e un'altra cosa che amo molto sono le attività proposte dall'Ateneo che spero si potranno tornare presto a fare covid permettendo che ci danno la possibilità di vivere l'università al di fuori della nostra sede che è una cosa bellissima quindi andiamo con i docenti a teatro a musei mostre a vedere film che è una cosa fantastica secondo me che è al di fuori solo appunto dall'aspetto diciamo più teorico e accademico l'ultima cosa a cui vi accenno sono i laboratori che ci danno modo di poi toccare con mano il lavoro pratico io personalmente lo stavo accennando anche in chat che qualcuno l'ha chiesto ho frequentato il laboratorio del professor Fabio Cavalli di teatro in carcere dove seguiamo il gruppo dei detenuti la compagnia dei detenuti nell'approccio al lavoro a un testo teatrale e dopo il laboratorio ho continuo appunto ho fatto il laboratorio due anni fa ho attualmente il piacere di continuare a lavorare con i detenuti che è un'esperienza bellissima e invece lavoro nel settore di cinema per esempio ho appena finito di girare un film con Rai Cinema quindi gli sbocchi lavorativi ci sono mi ha zitto e passo la parola alla mia collega Annalisa di cinema per qualunque domanda sono in chat buongiorno a tutti spero mi vediate mi sentiate e allora io sono Annalisa Fania piacere a tutti e sono al terzo anno di cinema e ho visto molte domande sulla chat su per chi vuole diventare regista per chi vuole diventare sceneggiatore oppure attore io ho scelto il Dams proprio per questo perché uscita dal liceo non sapevo propriamente che cosa fare mi piaceva recitazione mi piaceva regia mi piaceva scrivere e quindi ero piuttosto indecisa e il Dams è stata per me la scelta migliore perché mi ha consentito di studiare tantissime materie perché è veramente una facoltà molto interdisciplinare che mi hanno aiutato nel capire il mondo dello spettacolo e nel capire dove voglio indirizzarmi ovviamente per fare questi mestieri serve una base sia teorica che pratica infatti solitamente si consiglia sempre di frequentare prima un'università triennale come il Dams che dà comunque una base teorica su tutto veramente perché se si vuole fare il regista per esempio è necessario studiare al Dams le materie di cinema ma anche per esempio storia della musica perché comunque per fare un film tu devi sapere tutto riguardo anche agli altri settori infatti solitamente appunto consigliano di fare prima una università triennale e poi un'accademia di cinema infatti se andate a vedere i bandi delle selezioni per l'accademia di cinema o scuole di teatro sono fortemente consigliate il possesso di una laurea infatti le selezioni sono durissime e la laurea è diciamo un elemento di aiuto nel superare queste sicuramente un elemento di aiuto nel superare queste selezioni comunque per l'università ovviamente dipende anche dal singolo studente magari uno esce dall'università triennale o magistrale del Dams in cinema e riesce subito a creare un film o a subito le competenze per dirigere o per scrivere eccetera eccetera invece altrano bisogno più della parte pratica però ovviamente ci sono cioè il Dams è una università teorica come tutte le università ma ha anche dei corsi specifici e pratici come laboratorio di filmmaking laboratorio di sceneggiatura laboratorio di studio produzione televisiva o laboratorio di arte dello spettacolo di cui parlava prima Angelica quindi veramente almeno per quanto mi riguarda è stata la scelta migliore che io potessi fare perché mi ha messo di fronte alle infinite possibilità che ci sono e a una consapevolezza culturale molto diversa io ho finito il liceo volevo subito entrare nel mondo del cinema ma più studio e più mi rendo conto che ci sono tante cose da sapere prima di lavorare propriamente sul campo e infatti sono contentissima di aver scelto il dance perché mi ha dato questa opportunità e cos'altro dire io sono anche una studentessa fuori sede ho sentito che prima c'era una domanda su se scegliere Bologna o Roma io sono Veneta vengo da Treviso e quindi sicuramente Bologna era più vicino e più comodo ho scelto personalmente Roma perché Roma è la capitale è la città dove c'è maggior lavoro soprattutto per quanto riguarda il cinema ma anche il teatro e ho scelto Roma anche se magari era più lontana perché ritenevo potesse darmi più possibilità ovviamente i dance hanno più o meno tutti gli stessi insegnamenti la scelta propriamente di un dance rispetto all'altro vi consiglio di farla sulla base del piano di studi quindi andare a vedere le materie di studio che si affrontano nei vari dance e scegliere quello con le materie di studio che vi piacciono maggiormente e sicuramente valutare anche la posizione dell'università anche perché all'università si fanno quelle conoscenze quelle amicizie che poi aiutano molto nel mondo del lavoro e su cui si basano i rapporti lavorativi di futuro infatti noi ragazzi iniziamo già a fare cortometraggi anche extra scolastici rispetto all'università e io se voglio lavorare a Roma mi conviene fare l'università a Roma per instaurare comunque quei rapporti che poi mi aiuteranno in futuro e quindi questo se avete altre domande comunque alla fine potete farle tranquillamente e possiamo rispondervi anche a voce così è anche più interattivo grazie Annalisa ho parlato quindi lascio la parola a voi bene grazie volevo un attimo visto varie domande ringraziare Enrico per la bellissima lezione e Annalisa e Angelica per il loro intervento è stato molto utile penso e in chat c'erano diverse domande relative agli sbocchi professionali e anche sul percorso teatro musica danza che in qualche modo è stato meno trattato quindi volevo solo aggiungere prima di dare la parola Enrico che poi farà la regia poi delle domande che ci sono dire solo due parole un attimo molto sintetiche su questo percorso a beneficio degli studenti che hanno chiesto e poi proseguiamo mi credo con le vostre domande allora il percorso teatro musica danza ha una parte molto ricca che riguarda le discipline teatrali intese diciamo nel loro rapporto con il momento della performance essenzialmente quindi il teatro vivo ecco vivo sulla scena e non il teatro letterario non tanto lo studio dei testi della tradizione dei testi che ovviamente si studia ma anche un po' più il rapporto del teatro con l'attore o il corpo con la scena con tutto quello che riguarda la performance al primo momento della performance e ci sono poi degli esami di danza di storia della danza moderna e contemporanea e di danza anche di iconografia della danza e di danze più di tradizione orientale questo per quanto riguarda il settore coreutico per quanto riguarda la musica abbiamo dall'anno prossimo un esame di storia della performance musicale che sarà obbligatorio e riguarda appunto la storia delle modalità esecutive della musica quindi le orchestre gli strumenti gli stessi musicisti i contesti in cui si esibivano il pubblico di destinazione anche le problematiche relative proprio all'essere in scena come musicista tutto ciò che pertiene anche alla cosiddetta febbre della ribatta per così dire e poi abbiamo la storia dell'opera italiana quindi storia del melodramma si potrà fare anche storia della musica un esame di musica immagine oltre a un laboratorio di tecnologie musicali è presente in offerta è un laboratorio di linguaggio musicale i sbocchi professionali sono molto epici sono sia nel campo diciamo più strettamente artistico dove poi è possibile inserirsi nel mondo della produzione quindi tutto ciò che riguarda la produzione di un evento l'organizzazione di un evento l'allestimento di un concerto eccetera ma anche è possibile stare un po' dall'altra parte come critico come diciamo ha detto stampo ufficio stampa lavorare negli organi di comunicazione informazione quindi la radio le radio la televisione e lo stesso cinema perché comunque con la musica si lavora anche poi per il cinema è possibile anche specializzarsi una volta capiti i meccanismi nelle professioni musicali tra virgolette del cinema c'è tutto ciò che riguarda l'audio del studio del suono che è anche una cosa molto interessante per chiudere il rapporto tra teoria e pratica è quello che vi interessa di più se ho credito bene dalle domande diciamo che il Dams ovviamente ha una impostazione più storico teorico-critica come giusto che sia ma non dimentica quel rapporto con l'esperienza pratica perché i vari laboratori che ci sono che potete vedere poi sulla nostra pagina web o comunque sulle guide dei corsi di studio vi danno la possibilità di sperimentare già da subito il rapporto con il momento della produzione della scena del fare un film ci sono i laboratori film making di sceneggiatura per film eccetera quindi diciamo l'accento ovviamente è più universitario ma c'è anche uno sguardo sulla parte pratica che io vi consiglio comunque di studiare a parte facendo magari parallelamente o dopo dei corsi più speciali diciamo professionalizzanti che mi insegno magari a fare il doppiatore a fare il cameraman a fare non so il fonico e tutto ciò che riguarda queste professioni qui che si possono fare meglio con più professionalità avendo una base culturale che comunque bisogna avere non essendo un semplice tecnico che sa magari mettere le mani tra i fili o tra insomma i bite o i meccanismi tecnologici ma lo fa senza la luce diciamo della conoscenza che è quella che ci deve sempre guidare in tutte le attività che facciamo ci ho detto gli do la parola ad Enrico scusandovi se l'ho interrotto prima ma ed ho fatto più che altro perché poi ci sono dei tempi contingentati ed è sempre il rischio di sporare insomma queste cose che poi ci sono tirando dal punto di vista del tempo di spoiler grazie Enrico ti do la parola grazie Luca hai fatto benissimo invece perché è molto importante adesso questo momento di dialogo e di risposta alle domande degli studenti mi permetto prima di aggiungere soltanto una cosa a quanto è stato detto fin qui per ciò che riguarda il rapporto fra la teoria e la pratica è valida fino a questo punto questa posizione noi in realtà siamo pieni sia alle triennali che alle magistrali di studenti che lavorano oppure si stanno formando per esempio nel campo della cinematografia che sono attori che sono registi che studiano produzione oppure che lavorano presso festival cinematografici o che fanno critica cinematografica ad altri livelli queste sono soltanto alcune delle professioni che si possono svolgere parallelamente ma con una feconda un fecondo dialogo va bene come si monta è evidente che te lo insegna innanzitutto un laboratorio di montaggio ma ricordatevi anche che le tecnologie evolvono potreste formarvi oggi per una tecnologia che fra cinque anni può risultare obsoleta allora è molto importante che alla conoscenza pratica che per ciò che riguarda il fare cinema spesso riguarda anche le tecnologie si affianchi un tipo di consapevolezza di tipo diverso insomma la cultura guardate la consapevolezza di come il cinema e l'audiovisivo funzionano storicamente ma anche sul presente è importante e non è un elemento accessorio per cui quello che anch'io consiglio è il binario parallelo si fa l'università e allo stesso tempo perché il tempo c'è si seguono dei corsi professionalizzanti di tipo diverso anche l'università in realtà ha un triennio e poi una magistrale che in realtà approfondisce vi fa capire meglio una serie di cose che al triennio non è possibile approfondire allo stesso modo al triennio vi offriamo una base laboratoriale per ciò che riguarda il cinema anche il teatro la musica non mi metto a ripetere quali sono i laboratori l'avete già visto ed è una base che vi serve a orientarvi per la scelta ad esempio intanto per la scoperta delle vostre abilità guardate questi anni gli anni di triennio anche quelli di magistrale sono molto importanti per capire quali sono le proprie propensioni va bene e da questo punto di vista il Dams ha un importante è un importante momento di orientamento e di conoscenza anche di sé e poi appunto si gettano nel triennio le basi per proseguire il percorso universitario e per scegliere eventualmente il proprio percorso professionale va bene non so se a questo punto oltre alle molte domande che vediamo in chat e alle quali stiamo cercando di rispondere se c'è qualcuno che vuole magari accendendo il microfono chiedere qualcosa a me ai colleghi alle nostre studentesse o al personale di segreteria questo corso di studi permette anche di inoltrarsi nel mondo del musical nel mondo nel senso parla dell'organizzazione o della recitazione eccitazione sì qua abbiamo l'esperto che è posso? ciao un attimo Angelica che in realtà ecco non è che noi facciamo i corsi di attore è stato già detto però insomma di queste cose è così espira un po' l'aria al dumps ma Angelica adesso dirà più precisamente che è la massima esperta al dumps di musical ciao cara ti do del tour sì sono una grande appassionata del musical penso si veda anche dalle locandine che ho qui dietro sì noi studiamo teoria come abbiamo detto e stradetto però abbiamo cioè non sono l'unica che è appassionata di musical e che poi al di fuori del dumps si va a fare a frequentare i corsi riguardanti appunto il musical che può essere l'accademia del brancaccio o insomma siamo abbastanza pieni a Roma ora a prescindere covid situazione a parte però quindi sì assolutamente sì per qualunque insomma sono breve ma sì assolutamente il teatro è tutto quindi è anche il musical grazie e appunto non dimenticate approfitto di questo momento e nel frattempo chi vuole fare qualche altra domanda si prepari approfitto appunto di questo momento per sottolineare come poi entrare nel mondo del lavoro significhi non soltanto essere gli attori o o gli autori va bene di film o di opere o di musical ma significa essere anche gli organizzatori significa lavorare nella produzione nell'organizzazione questo anche è un tipo di percorso che molti nostri studenti seguono e c'è una mano Alessio sì avevo una domanda adesso quindi praticamente dopo questi tre anni di formazione generale sta a me scegliere teatro cinema musica o danza cioè il Dams mi dà una formazione generale su tutto quello che è il mondo dello spettacolo giusto o devo scegliere all'inizio cioè mi devo dire no danza no musica no teatro no allora il Dams triennale prevede due percorsi uno orientato appunto alle arti performative teatro musica e danza e l'altro dedicato prevalentemente al cinema alla televisione ai nuovi media digitali questo non significa che se si studia teatro musica danza non si danno esami di cinema e media se ne danno un po' di meno stessa cosa per chi studia cinema televisione e nuovi media sono previsti esami di musica di teatro di danza poi ricordo a tutti quanti non è il caso di mettersi a parlare del piano di studio in maniera dettagliata però il piano di studio in realtà prevede un percorso che evidentemente corrisponde alle nostre tabelle e quindi c'è un margine limitato di scelta ma ogni piano di studio prevede un certo numero di attività a scelta dello studente ovvero lo studente di cinema televisione e nuovi media che fosse interessato a dare più esami di musica o più esami di teatro può farli inserendoli fra gli esami a scelta cioè può fare quei due tre esami di teatro e musica che sono previsti dal suo percorso ma può aggiungerne degli altri fra gli esami a scelta questa è un'opzione che forse è interessante per voi mentre le lauree magistrali sono proprio due lauree magistrali diverse una di teatro musica danza e l'altra di cinema televisione produzione multimediale spero di aver risposto c'è Michelangelo prego salve avrei una domanda allora per diventare sceneggiatore o regista in generale è preferibile frequentare solamente il dance oppure l'accademia cioè nel senso dovendo scegliere tra una delle due soltanto quale sarebbe la più consigliabile allora noi siamo qui a promuovere il dance che devo fare le devo dire il dance ci sono guardi ci sono diverse ci sono ci sarebbero diverse cose da dire io quello che ho suggerito i percorsi paralleli perché in realtà come sempre la verità non sta mai da nessuna parte chi fa l'accademia ti direbbe che è meglio l'accademia ma chi fa la professione ti direbbe che non c'è miglior professione che quella di lavorare sul campo va bene allora quando io dico normalmente in queste occasioni che poi è molto difficile tracciare la linea che separa la teoria dalla pratica è perché molti corsi in accademia ad esempio sono un po' più pratici del dance ma non sono ancora pratici come quando si fa pratica sul campo questo vale per ogni professione e vale anche per la sceneggiatura che in linea di massima è l'attività pratica tra molte virgolette che meglio si può fare anche all'interno del Dams perché è evidente che per questioni proprio anche di disponibilità tecnologica quello che il Dams può insegnare meglio anche a livello del laboratorio pratico sono le forme della scrittura quindi quello che da noi si fa meglio è probabilmente la sceneggiatura e la critica cinematografica con un buon margine un'infarinatura iniziale per ciò che riguarda le arti digitali il filmmaking quindi la regia e il montaggio spero di aver risposto tutto chiaro grazie grazie naturalmente tutti i presenti tutti i colleghi e le studentesse presenti possono rispondere parlo ad Annalisa parlo ad Angelica e parlo anche ad Aurora se hanno voglia e anche Luca se è ancora collegato io do risposte adesso noi non abbiamo moltissimo tempo però mi pare che insomma i partecipanti continuino a rimanere quindi mi fa piacere dare la parola adesso a i tre che hanno alzato la mano poi magari non più Ilaria Ilaria Centa che ha alzato la mano ma non la sento ho parlato chiudendo subito il microfono mi scusi buongiorno allora la mia domanda è questa allora qualora io volessi fare inizialmente la triennale di Dams a Bologna dopo potrei comunque accedere a una magistrale che potete che proponete o non si può insomma sì sì certo naturalmente e anzi se il percorso triennale riguarda le nostre discipline l'accesso è anche molto semplice sono molti studenti che fanno questo fanno un percorso triennale in un'università e poi si spostano per la magistrale altrove anche in un'altra città sì sì assolutamente sì ok ottimo grazie volevo aggiungere a proposito di questa questione anche rilevante cioè il cambio di di università tra triennio e l'ambiennio che molti studenti non mi ricordavano questo cavocci pratica scusate avete un microfono acceso se potete spegnerlo grazie ecco questo ha vantaggi e svantaggi nel senso che ovviamente un vantaggio da punto di vista degli orizzonti culturali cambiare un'università e andare dal triennio a Bologna alla magistrale a Roma o viceversa o in qualsiasi altra diciamo città dove c'è un'offerta formativa valida da un punto di vista però nel rapporto con il mondo del lavoro bisogna stare attenti a non buttare magari un patrimonio di contatti che si è costruito nel corso dei tre anni e ti ripeto ancora una volta è molto importante già dal primo semestre si frequenta incominciare a tessere quella rete di relazioni personali che sono fondamentali per trovare il lavoro molto di più di avere 30 ellote o 110 ellote alla laurea che non vuol dire che non dovete studiare non vuol dire semplicemente che accanto alla preparazione e alla qualità diciamo della preparazione culturale dello studio ci vuole anche questo bagaglio di conoscenze che non sono le raccomandazioni diciamo vecchio stampo intese nel senso più bieco del termine ma sono l'essersi fatti conoscere sul campo fatti apprezzare e farsi quindi assumere per quel rapporto di fiducia che si crea automaticamente quando si lavora con qualcuno con esiti positivi ecco quindi stare tre anni in una città sperimentare ecco delle istituzioni culturali delle iniziative conoscere le persone può dare un vantaggio poi successivamente continuando abbattere diciamo il stesso terreno al momento poi di una sistemazione nella ecco in ambito professionale questo volevo dirvelo perché un'indicazione importante grazie Luca sì è molto molto importante a questo punto aggiungo che per l'appunto il valore delle cose che si accumulano nel tempo è un valore fondamentale va bene cambiare aria per così dire può dare l'impressione di apertura di orizzonti e sicuramente esiste questo aspetto ma considerate che se volete costruire qualcosa avete anche bisogno di portarlo avanti Alice che ha alzato la mano sì eccomi mi sentite sì perfetto no molto problemi con il microfono allora volevo chiedere nel momento in cui prima abbiamo parlato di dei corsi in più cioè io voglio magari fare cinema però voglio fare dei corsi di musica in più e posso farne giusto volevo chiedere se nel momento in cui io vado a laurearmi i corsi in più che ho fatto se ne tiene conto all'interno della laurea o comunque c'è una prima cena a riguardo allora non sono corsi in più è proprio che c'è un certo numero di corsi che diciamo che è libera che è a scelta dello studente nel piano di studi e tutti scelgono si possono scegliere altri corsi del proprio percorso per esempio in cinema ci sono altri corsi di cinema da scegliere oltre a quelli obbligatori si possono scegliere laboratori fra i molti che noi offriamo ma si possono scegliere cosa che secondo me è sempre anche auspicabile corsi dell'altro percorso quindi corsi di teatro musica per chi fa cinema ma allo stesso tempo corsi di cinema per chi fa teatro musica questo dipende un po' dai vostri interessi dipende dal vostro percorso dipende dalla tesi di laurea che state facendo magari state facendo una tesi di laurea che è a cavallo fra due discipline avete bisogno di consolidare una vostra consapevolezza non sono corsi in più sono la parte libera a scelta dello studente che ogni piano di studio vi garantisce in modo da offrire anche un minimo di personalizzazione del percorso va bene Rebecca se intervengo sono Aurora Silvestri della segreteria rispondendo ad Alice voi potete sempre frequentare un corso e non sostenere l'esame in caso di interesse dice voglio andare a vedere di che parla quel corso non ho più spazio nel piano di studi perché gli esami sono 180 crediti e ho finito nessuno vi vieta l'accesso al corso per acquisire appunto competenze nuove allo stesso modo poteste decidere di andare a frequentare per esempio un corso di marketing a economia voglio capire che fanno di marketing purché sia triennale posso seguirlo e metterlo nel piano di studi quindi puoi sostenere l'esame e avere il voto o seguirlo e avere acquisito quelle competenze che mi aiutano a capire meglio un processo anche magari di pubblicità o simile sotto qua scusate esatto guardate a me capita anche di studenti che magari hanno dato il mio esame l'anno precedente l'anno successivo ho cambiato tema gli interessa e si vengono a seguire il corso l'unica cosa che non si può fare è andare semplicemente a seguire i laboratori perché alcuni dei nostri laboratori hanno un numero programmato va bene perché è chiaro che si lavora bene con un numero limitato di persone per quanto riguarda quando si tratta di laboratori pratici per esempio di filmmaking Rebecca Enrico scusami a proposito di questo buongiorno a tutti sono Elisabetta la collega di Aurora Silvestri che ha appena parlato chiaro è ma questo penso che l'abbiate capito che ci sono i due percorsi di teatro e di cinema richiesta insomma la scelta del percorso al momento dell'iscrizione di uno piuttosto che l'altro poi si può sempre cambiare idea nel corso degli studi ma ci sono comunque degli esami proprio obbligatori questo è previsto al di là poi delle scelte personali che man mano vengono fatte nei esami appunto a scelta libera come diceva il professor Carocci però semplicemente il percorso di teatro prevede anche un esame obbligatorio di storia del cinema così come il percorso di cinema prevede un esame obbligatorio di teatro uno spettacolo performance quindi questo è previsto sin dall'inizio penso di averlo detto ma lo ripeto il piano di studio complementarietà tra i due percorsi non è che chi fa teatro fa solo unicamente esami di teatro Elisabetta grazie il piano di studio che è un argomento forse appassionante solo a metà è praticamente l'accordo che voi fate con il corso di laurea che prevede una serie di esami che voi svolgerete nel corso del triennio va bene potete modificarlo potete cambiarlo nel piano di studio indicherete alcuni esami che sono esami obbligatori alcuni esami che possono essere a scelta fra due e tre e altri che sono quelli a scelta di cui vi parlavo che scegliete voi per i dettagli avremo tempo Rebecca Cardaio per la terza per la terza volta le do la parola se c'è ancora grazie mille buongiorno innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi per appunto la lezione molto interessante come è stata illustrata e non ho domande perché alla fine tutte quelle che avevo chiesto mi sono state date e l'unica cosa che volevo chiedere dato che siamo alla fine le volevo chiedere per l'attestato di partecipazione a queste lezioni e quindi al corso di laurea le volevo chiedere che ci hanno detto già all'inizio della prima lezione generale che al termine appunto di questo incontro bisogna appunto dare insomma dalla posta del delegato dell'orientamento della vostra scuola ma cosa si si intende cioè come dovremmo attestare che abbiamo partecipato perché qui si parla di un delegato però non ho ben capito questa parte ecco allora guardate io mi scuso non vi so rispondere con precisione su questo perché riguarda il nostro ufficio orientamento però prego qualcuno dei presenti di informarsi e di rispondere magari in chat va bene grazie altrimenti vi chiedo di contattare la nostra collega Cavalletti che avete conosciuto nell'introduzione generale di questa giornata Valentina Cavalletti chiocciola uniroma3.it perfetto ma se qualcuno riesce a informarsi magari risponde in chat Valentina punto Cavalletti c'è un punto Valentina punto Cavalletti molto rapidamente perché appunto voi continuate a rimanere ci fa molto piacere devo dire però a un certo punto dobbiamo salutarci quindi volevo dare la parola chiedere a Sara Volpe se ha qualcosa da chiederci sì salve buongiorno io volevo fare una domanda per quanto riguarda il corso diciamo inerente alla danza volevo chiederle ma quali sono diciamo gli sbocchi lavorativi a cui diciamo possiamo accedere a fine percorso universitario ecco se posso dire io che sono un po' più vicino per aree anche se sono un docente di musicologia di storia della musica e non di danza però per affinità ecco tra chiaramente la musica e la danza sono un po' più ecco a giorno di Enrico su queste questioni qui allora per la danza vale un po' lo stesso discorso che vale per il teatro e per la musica cioè per tutte le arti performative gli ambiti lavorativi sono quelli da un lato quelli diciamo più vicini alla pratica artistica e dunque tutto ciò che ha a che fare con la scena ma sicuramente noi non non prepariamo danzatrici e danzatori al Dams abbiamo molti studenti dell'accademia di danza che fanno anche il Dams però quindi che fanno o che vengono da scuole di danza e poi chiaramente c'è tutto il livello di promozione comunicazione gestione dello spettacolo che anche della critica e delle mezzi cioè il lavoro nei mezzi di comunicazione cioè è molto affine a tutto quanto tutto quello che riguarda la musica e il teatro c'è da dire che in Italia lo spazio della danza sia sui mezzi di comunicazione che diciamo a livello istituzionale è un po' più ridotto rispetto a quello che c'è la musica e c'è il teatro esiste però un fortissimo bacino di utenza che sono un po' che è dato costituito dalle scuole di danza private anche che sono diciamo diffuse sul territorio in maniera molto capillare che anche offrono lavoro diciamo ai giovani sia diciamo come docenti ma anche eventualmente con organizzatori come personale di supporto e tutto il resto quindi c'è tutto un mondo che gira intorno alla danza che però sta più nel privato che nel pubblico non so se le informazioni che le ho dato possono essere utili però più o meno sono queste sì la ringrazio grazie allora ragazzi abbiamo il tempo per l'ultima domanda che è quella di Deborah che aveva alzato la mano per prima buongiorno io volevo fare una domanda riguardo il teatro palladium perché prima c'era stato accennato ma non c'era stato approfondito la questione come come è la funzione durante il percorso di studi cioè che funzione ha allora diciamo rispondo un chio perché sono responsabile attualmente del teatro e allora sì abbiamo innanzitutto un tirocinio che si chiama tirocinio teatro palladium gli studenti possono inserire il piano di studi e dunque fare al teatro uno stage in uno dei vari settori che possono essere quello della comunicazione lavorando sui social per esempio la comunicazione social oppure più nella produzione artistica e quindi sul lato dell'organizzazione teatrale più concreta e quotidiana oppure nei vari altri settori della vita teatrale e ripeto sono molto articolati ecco sono molte cose che possono fare in un teatro che vanno la gestione della sala la sera gli spettacoli l'accoglienza del pubblico l'invio dei materiali pubblicitari tutte queste cose qui insomma anche il contatto con gli studenti con i colleghi in università nei punti vendita che abbiamo nei vari dipartimenti quindi tutta una serie di cose che si possono fare e poi ovviamente c'è un contatto più didattico formativo con iniziative seminari festival che si tengono al palladium e a cui partecipano i nostri studenti come studenti quindi per esempio il festival del cinema Roma 3 il film festival adesso si chiama palladium film festival in tanti progetti abbiamo uno rincorso si chiama vita in musica che sono film biografici dedicati a musicisti appunto vita di musicisti trasposte sul grande schermo abbiamo uno dedicato al cinema molto degli anni 20 con musica dal vivo sono tutte cose che si fanno al palladium e che interessano direttamente sia come collaboratori sia come uditori come ascoltatori i nostri studenti quindi è un'interazione molto diciamo fitta e molto scritta tra il teatro palladium e gli studenti del Dams possono anche eventualmente presentare i propri progetti e quelli più validi vengono anche accolti e supportati per eventuali messi a scena nel teatro grazie mille grazie Luca e ringrazio anche Deborah perché effettivamente ci ha fatto una domanda importante io avrei in conclusione toccato sicuramente l'argomento del teatro palladium che è insomma uno dei nostri fiori all'occhiello e siamo molto felici di poter di poter far sì che questo teatro sia parte della vita universitaria dei nostri studenti l'altro punto di cui non abbiamo parlato che sottolineo brevemente vi ricordo che anche con il Dams è possibile usufruire delle borse Erasmus per fare esami all'estero per svolgere all'estero periodi di ricerca per svolgere all'estero tirocini addirittura alla nostra laurea magistrale abbiamo un corso congiunto del quale in questo momento non vi parlo perché immagino siate più interessati al triennio ma fondamentale anche la presenza dell'Erasmus al triennio abbiamo moltissimi paesi con cui abbiamo accordi a questo proposito io vi ringrazio davvero siete rimasti fino alla fine abbiamo fatto un po' tardi ma credo sia stato interessante per tutti solitamente noi organizziamo molti incontri di presentazione di orientamento e poi molti incontri con le nostre matricole cioè con gli studenti che ci hanno dato la loro preferenza quindi mi raccomando cerchiamo di rimanere in contatto e a questo proposito vi invito a tenere sempre in considerazione i nostri siti istituzionali ma anche le nostre pagine Facebook e Instagram Dams Roma 3 che aggiorniamo con varie attività e anche con le attività di orientamento che svolgiamo nel corso del semestre e naturalmente potete contattarci ai nostri indirizzi personali li trovate facilmente online io non posso che ringraziare tutti Luca Versano le nostre studentesse Annalisa e Angelica Aurora ed Elisabetta delle segreterie didattiche e tutti voi che avete partecipato grazie può dire anche il canale YouTube che vi copio in chat potete consultarlo perché lì trovate molte informazioni e sì esatto se avete altre domande potete comunque sempre contattarci a me o ad Angelica che magari siamo più semplici da contattare rispondere a qualsiasi domanda ragazzi perché vedo ancora mani alzate quindi per qualsiasi cosa noi ci siamo veramente vi ringrazio ma ci siamo anche noi trovate i nostri indirizzi mail facilmente sui siti istituzionali di Roma 3 mi raccomando l'iscrizione alla prova va dal 25 maggio al 22 settembre alle 14 perché il contributo per partecipare alla prova va pagato dentro un certo orario la prova sarà a fine settembre l'immatricurazione tra il 7 e il 15 ottobre comunque ci riaggiorneremo andando vi ricordo che tra il 6 e l'8 di luglio c'è orientarsi a Roma 3 la manifestazione in cui l'Ateneo presenta se stesso e tutti i servizi e i corsi di laurea offerti quindi ci ritroverete ci ritroveremo anche lì buona giornata arrivederci speriamo di vederci allora a luglio grazie grazie a voi arrivederci grazie arrivederci bene io penso che possiamo certamente cominciare questa lezione questa lezione di presentazione del nostro corso io mi sono già presentato sono appunto il coordinatore del corso di studio in filosofia Riccardo Chiaradonna e insieme a me parleranno in questa lezione i colleghi Daniela Angelucci ciao Daniela professoressa di estetica e il professor Giampaolo Conte che insegna storia economica e discipline storiche legate al mondo contemporaneo allora questa lezione è intitolata filosofia oggi e riprende un po' alcuni aspetti di quello che io ho detto pochi istanti fa nella presentazione generale e volevo proprio riprendere da una domanda molto interessante che è stata posta nella chat della prima parte ossia mi è stato chiesto ma se si fosse interessati a un percorso di studio storico storico filosofico Roma 3 permette di impostarlo secondo questi criteri beh insomma la risposta che do io evidentemente sì per varie ragioni in primo luogo c'è una forte una forte presenza di insegnamenti storico-filosofici a Roma 3 io insegno storia della filosofia antica e Giampaolo Conte che è qui presente insegna storia abbiamo insegnamenti sia storico-filosofici sia storici nel nostro dipartimento e il titolo binazionale di cui vi parlavo è per l'appunto un titolo in storia della filosofia principalmente con l'università Sorbona di Parigi quello che io però vorrei e qui mi rallaccio subito all'inizio di questa lezione nella parte finale di questa presentazione quando parleremo delle vostre domande vi mostrerò anche alcuni alcuni alcune attività del nostro corso che non ho introdotto finora per esempio un canale YouTube Filosofia Roma 3 in cui trovate lezioni dibattiti che vi danno davvero una percezione del lavoro che viene fatto nel nostro corso di studio e alcuni di questi dibattiti sono proprio sulla storia della filosofia ne parleremo tra un po' quello che però io credo caratterizzi Roma 3 e caratterizzi anche chi insegna storia della filosofia Roma 3 è una visione non antiquaria della storia della filosofia forse voi sapete che nelle considerazioni inattuali Nietzsche distingueva tre tipi possibili di storia monumentale antiquaria e critica ognuno dei quali compregge difetti rispetto alla storia antiquaria diceva che ha il possibile difetto di paralizzare potremmo dire il rapporto con la vita nel senso che si è imprigionati nel passato e quindi diciamo questo passato diventa un ostacolo alla comprensione della presente del mondo in cui noi viviamo ecco la storia della filosofia è da noi insegnata e coltivata come ricerca in costante dialogo invece con le altre le altre diciamo parti della filosofia e il dibattito e il dibattito che che viene che viene svolto nel mondo nel mondo presente per questo io quando abbiamo io dal professore Sangelucci e il professor Conte abbiamo scelto delle parole chiave ho scelto la parola pensiero critico la filosofia nasce in costante dialogo con il mondo intorno a sé se noi guardiamo la nascita del pensiero filosofico in Grecia tra quinto e quarto secolo vediamo che i filosofi non erano affatto degli intellettuali staccati dal mondo in cui vivevano erano persone che interagivano in maniera costante con l'ambiente culturale politico greco in cui operavano e che in questo ambiente portavano qualcosa che in fondo era peculiare della filosofia che non è tanto una serie di dottrine una serie di tesi sul mondo ma un certo modo di difendere e sviluppare queste tesi e queste dottrine che è per l'appunto quello del pensiero critico voi sapete che il termine critico ha dentro la parola greca crisis il verbo crino che vuol dire discriminare cioè la parola critica la parola pensiero critico è quell'atteggiamento verso la realtà che non si limita a raccontarla che non si limita in qualche modo a subirla ma che la sottopone a un'analisi razionale e io credo che questa eredità della filosofia è quella che uno studio storico-filosofico fatto nel modo come dire adeguato cioè non uno studio antiquario ma uno studio in cui la storia sia pensiero critico deve precisamente veicolare e per questo io diciamo ho insistito nella mia presentazione anche sul legame tra la filosofia e il mondo presente perché c'è un certo modo di insegnare storia della filosofia che è veicolato anche come dire in alcuni manuali forse anche quello che voi avete a scuola non lo so per cui ne abbiamo la storia della filosofia come una galleria di grandi intellettuali che hanno detto delle cose sul mondo anche un po' bizzarre uno si chiede ma insomma ma perché io devo studiare queste cose assurde che ha detto una persona 500 anni prima di me ecco questo è precisamente il modo in cui la storia della filosofia non va studiata la storia della filosofia va studiata innanzitutto leggendo sempre i testi dei filosofi e questo e confrontandosi con questi testi non solo leggendoli in modo impressionistico ma analizzandoli argomentativamente scrivendo su questi testi io per esempio nei miei corsi chiedo sempre di scrivere delle tesine sui testi che vengono letti perché in questo modo in realtà si sta facendo storia della filosofia ripercorrendo il modo stesso in cui i filosofi hanno hanno ragionato e hanno ragionato confrontandosi con problemi intorno a loro la prima teoria forse la prima vera teoria assurda che si incontra quando si studia la storia della filosofia è la teoria delle idee di Platone e uno si chiede ma perché mai io devo ammettere che esistano delle cose che nessuno ha mai visto che non sono in un luogo che non sono in uno spazio per quale motivo ecco se noi andiamo a ripercorrere le ragioni per cui Platone ha postulato la teoria delle idee vediamo che c'è un radicamento nella storia e nei problemi fortissimo la teoria delle idee è stata sviluppata per rispondere a problemi che riguardano per esempio lo statuto dei valori morali e della giustizia oppure lo statuto delle verità matematiche e Platone confrontandosi col dibattito scientifico più avanzato della sua epoca e col dibattito politico che si era svolto dai sofisti a Socrate alla sua epoca ritiene che solo ammettendo un ordine di realtà eterogeneo rispetto alla realtà fisica sensibile si possa dare delle risposte a quei problemi che avevano tormentato le generazioni precedenti a sé non è il mio campo di studi ma so dai miei colleghi e so studiandolo in maniera non specialistica che attualmente tutti i dibattiti per esempio sulle neuroscienze danno luogo a una vivacissima discussione filosofica e io credo che proprio qui si vede come dire come si è sbagliato contrapporre storia della filosofia a filosofia contemporanea perché in fondo i filosofi che oggi discutono con gli scienziati delle scienze cognitive fanno la stessa identica cosa che platone faceva con i matematici della sua epoca o che aristotele faceva con i naturalisti cioè guarda in una prospettiva filosofica di pensiero critico le acquisizioni del mondo intorno a sé allora se è fatta in questo modo la storia della filosofia non è quella galleria di opinioni assurde strane è una è un modo per guardare il passato come uno strumento formidabile di analisi del presente e vorrei chiudere questa questa parte del mio intervento proprio con due richiami noi viviamo in un mondo schiacciato sull'analisi del presente ci sono alcuni storici che hanno chiamato il nostro mondo il mondo del presentismo proprio perché come dire noi viviamo con gli occhi schiacciati nel presente con l'idea che nessun altro mondo sia possibile e guardiamo il futuro sulla base del nostro presente abbiamo visto come questo ci porti a errori di prospettiva assolutamente imperdonabili beh lo abbiamo visto un anno fa ci sembrava di vivere ormai in modo come dire irrevocabile in un mondo di comunicazioni e di spostamenti perpetui e facili nell'arco di tre settimane siamo tornati indietro di 60 anni se non di più ecco questo ci fa vedere come forse l'unico carattere vero del futuro è che non è come noi ce lo aspettiamo lo studio della storia della filosofia ci allena non tanto ad avere dei monumenti perché gli uomini non forniscono monumenti attraverso il loro passato ma ci allena in maniera veramente veramente efficace a capire che il nostro mondo non è l'unico possibile che il nostro mondo cambierà cambierà in modo diverso da come ce lo aspettiamo e studiare il passato è in fondo la maniera più efficace per pensare il futuro non certamente il futuro va anche immaginato ma il futuro va anche pensato e in questo senso io direi legherei il passato molto al futuro proprio come un modo di andare oltre lo sguardo schiacciato schiacciato sul presente io sono uno storico della filosofia antica ho dedicato a questa disciplina più della metà della mia vita quindi insomma bene o male come dire a meno di bilanci catastrofici su quello che ho fatto nel mio percorso tendo a credere che sia una disciplina importante ma è una disciplina importante che nasce da alcune debolezze che sono in fondo anche le debolezze della filosofia un grande studioso italiano Mario Veggetti ha detto e ha scritto che se noi vediamo perché nel mondo mediterraneo la sapienza che era prova di tutte le civiltà per esempio l'idea di avere dei miti sull'origine del mondo o non so dei miti che riguardano la nascita di alcuni valori morali perché solo in Grecia questo ha dato luogo a un pensiero argomentativo e non invece a una narrazione mitica come abbiamo in altri contesti sapete che nel XIX secolo si parlava di miracolo greco era l'epoca del colonialismo era anche un'epoca di forte razzismo voglio dire questo è evidente e si diceva che solo i greci avevano avuto il genio di far nascere la filosofia Veggetti rovescia io credo questa impostazione in maniera davvero efficace facendo vedere come la filosofia è nata in Grecia per alcune debolezze della civiltà greca non per una sorta di capacità miracolosa di una razza superiore che non c'è e non esiste è nata per esempio perché i greci avevano un patrimonio di miti molto fragile erano i miti omerici erano miti recenti miti che venivano sottoposti a critica non avevano una casta sacerdotale avevano un apparato statale molto debole le città greche avevano erano deboli litigiose ecco questo mondo molto più fragile di quello egizio di quello babilonese ha però creato come uno spazio vuoto lo spazio dell'argomentazione razionale lo spazio dell'argomentazione critica da cui sono nate sia le discipline umanistiche sia le discipline scientifiche chiunque studi storia della filosofia antica sa che la contrapposizione tra discipline umanistiche e discipline scientifiche non ha senso le discipline scientifiche hanno sempre dialogato con la filosofia e la filosofia con le discipline scientifiche è lo spazio della razionalità lo spazio del pensiero critico il nostro corso io credo ha questa caratteristica io bonariamente dico sempre che Roma 3 non è una università con un grande avvenire dietro le spalle cioè non guarda a se stesse in modo monumentale rievocando per esempio i docenti che hanno insegnato a Roma 3 cent'anni fa non ci interessa ma soprattutto per fortuna non 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 abbiamo neanche questo fondo come dire antiquario da infliggervi a noi interessa che i nostri studenti studino in un contesto favorevole aperto al mondo in cui il pensiero critico sia declinato in tutte le sue possibili espressioni questa è una breve introduzione io lascerei adesso senz'altro la parola credo a Daniela per la seconda parte della lezione ovviamente dopo ritorneremo anche per approfondire alcuni di questi spunti nella discussione finale grazie 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 Riccardo e buongiorno a tutti mi chiamo Daniela Angelucci insegno estetica nel dipartimento appunto filcospè nel corso di laurea di filosofia e dovendo scegliere una parola per spiegare che cos'è per me cosa potrebbe descrivere per me la pratica filosofica l'attività filosofica oggi ho scelto un po' provocatoriamente questa parola invenzione proprio perché sapevo che avrei parlato tra Riccardo Chiara Donna che studia appunto storia della filosofia antica il professor Gian Paolo Conte che insegna studia e insegna storia storia economica ho pensato di provare appunto a trovare un termine che uscisse un po' dall'idea di una disciplina soltanto storica in realtà già devo dire che da quello che ho sentito adesso da quello che diceva il professor Chiara Donna adesso credo che siamo abbastanza d'accordo su che cos'è cosa deve essere la storia della filosofia però ecco ho scelto questo termine invenzione provocatoriamente dicevo per provare a ribaltare un po' un cliché che c'è sulla filosofia che tradizionalmente ma anche appunto nei manuali scolastici è presentata quasi sempre come meditazione riflessione a posteriori amore per la sapienza per la saggezza nel senso appunto di una capacità di riflessione e di applicazione del pensiero critico in seguito a qualcosa che è avvenuto anche nel nostro sito c'è quel disegno quel logo insomma della nottola la nottola di Minerva che avrete studiato a scuola è una delle metafore più famose egheliana la nottola di Minerva è un uccello notturno che arriva al crepuscolo e quindi dà l'idea di un lavoro diciamo di riflessione successivo invece io con questo termine invenzione riprendo una definizione più contemporanea di filosofia che è stata proposta nel novecento da un filosofo francese in particolare Gilles Deleuze che dice la filosofia non è meditazione non è riflessione non è comunicazione ma è invenzione invenzione di che cosa di nuovi concetti quindi la filosofia è una pratica che fabbrica dei nuovi concetti in che modo o addirittura inventando parole nuove per esempio estetica è un termine completamente inventato nel settecento oppure diciamo dando un nuovo significato a delle parole che sono già in uso e quindi effettivamente la filosofia è costellata di queste invenzioni concettuali il professor Chiaradonna prima citava le idee platoniche sono uno dei grandi esempi di questi che Deleuze avrebbe chiamato più tardi personaggi concettuali perché invenzione perché c'è l'idea di una necessità di una nuova parola di un nuovo immaginario a partire però da una domanda urgente questo è il secondo punto che vorrei provare a dirvi oggi e cioè l'invenzione concettuale la pratica filosofica come proposizione proposta di nuovi concetti come le idee platoniche ma anche l'io penso cantiano la monade ce ne sono moltissimi nella storia della filosofia di questi nuovi concetti ebbene questa invenzione come nasce prima di tutto nasce dalla necessità di rispondere di provare a rispondere a delle domande anche questo è un po' così oggi mi sento di dirvi anche qualcosa di un po' che possa forse stimolare il dibattito se poi ci sarà tempo si dice sempre che la filosofia pone domande e non dà risposte questo naturalmente in un certo senso è vero non si può rispondere in modo univoco e definitivo alla domanda su che cos'è l'essere ma forse qualche risposta si può provare a dare appunto con queste invenzioni concettuali e soprattutto secondo me quello che è interessante è che questa attività che io definisco creativa definisco inventiva è un'attività che arriva in risposta a un'urgenza del pensiero a qualcosa che per non essere convenzionale per non essere arbitraria per non essere così ininfluente poco significativa deve essere una domanda che un po' ci tormenta che un po' ci ci mette in questione e queste domande spesso arrivano dal fuori della filosofia anzi quasi sempre arrivano dall'extra filosofico e quindi arrivano dal nostro mondo un esempio ultimamente con alcuni colleghi sto sviluppando una linea di ricerca per me nuova che riguarda l'ambiente riguarda il territorio l'ecologia intesa nel senso più ampio possibile è perché come si evince dalla situazione che stiamo vivendo oggi chiaramente la nostra vita più che il nostro presente la nostra esistenza extra filosofica oggi ci pone in modo forte quasi irrinunciabile la domanda sul nostro posto nel mondo sulla situazione ambientale sulla crisi ambientale crisi che è non solo ambientale ma socio ambientale quindi è una domanda anche molto politica ecco io direi che questa è una classica domanda a cui la filosofia deve provare a rispondere con nuovi concetti con nuovi modi nuove parole con nuovi immaginari questo mi permette anche di dirvi io vi ho detto prima che insegno insegno estetica che l'estetica diciamo è appunto nasce nel settecento come teoria della sensibilità in generale ma anche come teoria delle arti e quindi naturalmente questa idea di creatività di inventività a me sta molto a cuore anche perché pensare alla filosofia come una pratica inventiva la fa risuonare con le arti che sono chiaramente diciamo in modo più ovvio delle pratiche inventive ma naturalmente ci sono delle differenze non dico che arti e filosofia siano la stessa cosa perché come diceva molto bene il professor Chiaradonna prima il sapere argomentativo della filosofia non si basa sulla creazione di immagini sulla creazione di racconti ma appunto proprio su questa idea delle invenzioni concettuali e però come si creano dei concetti e qui vengo un po' a se volete correggere questa impostazione molto radicale della filosofia come invenzione quindi faccio questo movimento di tornare un po' sui miei passi in un certo senso perché è vero che i concetti non si inventano né si trovano già pronti né però si inventano dal nulla i concetti si inventano sulla base dei concetti che noi abbiamo ereditato dalla storia del pensiero e quindi questa idea di una filosofia come attività creativa non significa assolutamente e questo diciamo io lo dimostro proprio nella mia ricerca nel mio insegnamento che di fatto è un insegnamento per le lauree triennali di storia dell'estetica appunto l'invenzione concettuale si basa su una possibilità di riprendere e manipolare trasformare se volete in parte anche tradire i concetti del passato l'autore a cui facevo riferimento prima dice che per fare per arrivare a fare una pratica filosofica occorre prima aver fatto un apprendistato la parola apprendistato non vi sfuggirà forse che è una parola che rimanda anche questa alle arti perché l'apprendistato si faceva a bottega i pittori facevano un apprendistato presso i grandi maestri di pittura così come i pittori fanno apprendistato in una bottega prima di inventare il loro originale stile così prima di inventare nuovi concetti che rispondano alle domande alle urgenze del pensiero che spesso sono quelle del presente ma possono essere anche quelle diciamo eterne poi della natura umana per fare questa pratica occorre rifarsi studiare fare l'apprendistato creare delle cause in comune con i filosofi del passato quindi andare a studiare i filosofi del passato non in modo neutrale naturalmente quella sarebbe veramente una storia antiquaria e monumentale ma andando a guardare a quelle invenzioni concettuali del passato che sembrano avere come obiettivo quello di rispondere alle nostre stesse urgenze alle nostre stesse domande quindi sono molto d'accordo sull'idea di non schiacciarsi sul presente ma di produrre nuovi immaginari a partire da una io ultimamente la chiamo manipolazione dei concetti del passato è un po' forte come termine perché significa che dopo uno studio anche diciamo fedele occorre produrre una propria via di fuga da quello da cui partiamo ma sicuramente ecco è interessante per me oggi proporvi la possibilità di seguire questi corsi della laurea triennale ma anche della laurea magistrale come appunto un un apprendistato che però vi vede diciamo in prima persona alla ricerca di quegli autori e di quei concetti che possano rispondere alle vostre stesse domande alle vostre stesse urgenze e quindi su questa questione della storia lascerei la parola al professor Gianpaolo Conte che appunto ha scelto proprio questo termine grazie Daniela sì il mio intervento appunto si muove lì all'interno della della sfera delle scienze storiche e vorrei comunque darvi un po' alcuni alcuni strumenti per comprendere anche la differenza che esiste tra appunto tra la storia che è appunto una scienza e la memoria e al contempo una cronaca che invece sono solamente una rappresentazione soggettiva di un determinata di una determinata questione e di un determinato problema quindi in qualche modo lo studio della storia in sé è un po' una cassetta degli attrezzi per comprendere l'evoluzione del mondo moderno trovando nel passato e quindi attraverso una prospettiva di ampio respiro tutta quella serie di background conoscitivo tale da permettervi di capire che cosa il mondo diciamo su quali linee il mondo si sta muovendo per questo io riprendo diciamo anche lì una un concetto stesso elaborato ad esempio da Benedetto Croce che è proprio la differenza mette già in evidenza in forte evidenza la differenza che esiste appunto tra la storia tra la memoria e la cronaca Croce dice che appunto la storia non deve giudicare ma deve spiegare e non è soggettiva ma è oggettiva o quantomeno dovrebbe essere il più possibile la soggettività invece è qualcosa che rimanda che ha la memoria ad esempio facciamo un esempio la memoria è quella cosa che rappresenta appunto un punto di vista personale di un certo tipo di avvenimento pensiamo non so a quello che può che può ricordare ad esempio un soldato americano che andava a combattere in Vietnam ovviamente la sua visione del conflitto è una visione diciamo molto ristretta e confinata alla sua prospettiva che chiaramente è accettabile perché lui realmente ha vissuto quella guerra lui veramente ha combattuto e lui veramente con gli occhi ha rapito un po' la situazione vigente e quindi lui legittimamente racconta il fatto secondo la sua prospettiva ed è una prospettiva di un soldato che si trova a combattere e che è costantemente attaccato e questo poi in qualche modo fa sì che la sua testimonianza si raccolga con altre testimonianze e venga data chiaramente un punto di vista diverso rispetto invece a quello che è nel complesso e invece la storia cos'è? La storia riferita chiaramente sempre a quel tipo di guerra in questo caso alla guerra del Vietnam ci mostra che invece quella è stata un conflitto nefasto che gli Stati Uniti sono arrivati in Vietnam per combattere chiaramente hanno dichiarato guerra ad un popolo che si trovava in quella data regione e quindi da storico si cerca di immaginiamoci un punto di vista di uno storico americano che deve liberarsi in qualche modo da questa balanga di testimonianze unilaterali del conflitto e cercare di muoversi per comprendere un po' dall'alto quali siano stati veramente gli accadimenti appunto storici basati su fatti reali ovviamente la storia non è qualcosa di asettico e non è qualcosa di deumanizzato e quindi porta con sé tutte appunto le opinioni che uno storico può avere ma la questione importante è appunto quello di riuscire a comprendere al di là delle passioni o di riuscire a comprendere al di là delle influenze solamente di una parte un certo tipo di accadimento immaginatevi io uso un po' questa parola che è diciamo un esempio un po' un po' forte ma diciamo lo storico è un po' un detective antel litteram immaginatevi uno scontro diciamo tra due auto al centro di una strada lo scopo dello storico non è quello di sentire solamente l'opinione di uno dei due guidatori perché ovviamente ognuno ha la propria versione dei fatti ma lo storico è quello che arriva sul luogo dell'incidente osserva il luogo dell'incidente e chiede sì ai due autisti che cosa è successo ma andrà a chiedere anche a coloro che sono intorno a colui che si trovava a quell'angolo della strada che ha chiaramente un certo tipo di prospettiva o magari all'altra persona che si trova al primo piano e che sicuramente dall'alto ha avuto una visione più neutra di quell'incidente anche perché non è coinvolto emotivamente in quel tipo di fatto e al contempo noi oggi siamo invasi da ad esempio da tutta una serie di narrazioni che vogliono essere o vogliono ricalcare un accadimento storico ma che in realtà vivono nell'immediatezza nella brevità per esempio è il caso della cronaca che anche lì è qualcosa che rimane solamente si confina solamente nella parte superficiale di un accadimento e vuole essere invece in qualche modo usata per legittimare dei comportamenti vi faccio un esempio ad esempio oggi io insegno storia economica quindi porto poi un po' a me certi tipi di questioni ad esempio oggi passa sulla ad esempio sulla grande sulla carta stampata o sui media che bisogna accettare un certo tipo di struttura anche lì economica dello Stato lo Stato è un'azienda si deve comportare in un certo modo deve fare deve fare un po' i conti della serba il lavoro deve essere strutturato in questo modo beh invece guardando un po' questi tipo di affermazioni attraverso una chiave di lettura storica cioè andando a leggere grandi autori o andando a leggere ciò che in passato è successo e come in passato l'economia si è mossa o si è diciamo in qualche modo adattata alle varie esigenze si scopre che non è sempre stato così che lo Stato ha avuto un ruolo diverso che il lavoro aveva ed ha un ruolo diverso rispetto al passato e quindi noi ci poniamo delle nuove domande guardiamo al passato per cercare di interpretare meglio il presente e di dare delle nuove risposte sempre Croce diceva appunto che la storia è un atto di pensiero e la cronaca invece un atto di volontà e ogni storia non è più storia ma cronaca quando non è più pensata quindi vedete bene come tutto ciò che riguarda diciamo la sfera sia della filosofia sia della storia esce fuori appunto come un un atto di pensiero tale da in qualche modo osservare il presente attraverso appunto dei nuovi strumenti o degli strumenti interpretativi che si fondano appunto sulle scienze sul passato di ogni società ad esempio faccio un ultimo esempio quando in qualche modo oggi molto spesso si parla dell'evoluzione del mondo economico si dice che insomma gli economisti cercano di dare una razionalità a in qualche modo ai vari accadimenti economici ma generalmente noi sappiamo che diciamo le società umane non sono diciamo non possono essere trattate come dei modelli economici non sono razionali come lo può essere diciamo in qualche modo un'equazione matematica e per questo ci troviamo un po' in grande difficoltà a comprendere per quale motivo questi grandissimi modelli economici non riescono poi a trovare riscontro positivo quando vengono applicati all'interno della società anzi rischiano di creare alcuni danni perché si è smesso di pensare ai problemi in quanto tali al fatto che l'economia ad esempio in questo caso in mio caso lo studio della scienza dell'economia attraverso la storia riguarda complessivamente le società umane qui concludo non so se lascio la parola al professor chiara donna grazie grazie mille a questo punto in realtà è prevista un intervento da parte di una nostra studentessa che dovrebbe essere in linea ed è Bianca eccola qui buongiorno Bianca buongiorno allora la parola ok allora inizio intanto ringraziando i professori perché hanno fatto dei bellissimi interventi che tra l'altro insomma condivido io porto assolutamente insomma il mio punto di vista che è tutto particolare di Bianca che è una studentessa della laurea magistrale in scienze filosofiche e non so se ci sono degli indecisi tra di voi io appena uscita dal liceo ero assolutamente disorientata rispetto alla scelta dell'università e quello che mi viene da dirvi è che innanzitutto se anche voi non vi siete annoiati ma avete trovato molto interessante tutto ciò che hanno detto i professori allora iniziamo molto bene insomma vi trovate nel posto giusto è molto importante credo quello che hanno detto il professor Chiara Donna e anche la professoressa Angelucci che ho anche avuto diciamo il piacere e l'onore di avere come professori rispetto al pensiero critico e alle domande sono due diciamo due concetti decisamente chiavi credo perché sono un po' quelli che secondo me spingono anche un ragazzo a scriversi a filosofia tra le domande io quello che ho che ho provato diciamo sulla mia pelle è che spesso chi studia filosofia ama quelle domande che altri magari non hanno interesse a porsi semplicemente perché magari non ne comprendono l'utilità o non le comprendono che invece appunto sono domande importanti e sono anche quelle domande che in realtà sono anche difficili da formulare perché poi trattano degli argomenti appunto difficili da da comprendere no? e personalmente sicuramente il il pensiero critico è è una delle cose che che diciamo ha aiutato come dire che si è che si è formato grazie allo studio di di questa di questa materia la filosofia ti permette di comprendere la quanto la realtà sia poliedrica credo che non ci siano soltanto come dire punti di vista univochi univoci e che appunto tutto è molto in movimento questo perlomeno è davvero l'insegnamento più grande che io ho ricevuto durante il mio percorso e poi assolutamente questo è anche legato a una pigrizia di pensiero che viene ostacolata dallo studio di una materia del genere e che è tra le cose più pericolose a questo mondo e ora nello specifico Roma 3 ha molti vantaggi io credo io l'ho scelta perché è un'università appunto non tra le più grandi a Roma io sono tra l'altro una studentessa fuori sede perché non sono romana sono marchigiana e quindi volevo un'università che non fosse eccessivamente caotica e che avesse anche per questo proprio per il fatto che non fosse troppo grande una buona organizzazione e grazie a questo fatto ho potuto constatare innanzitutto che ci sono moltissimi professori e professoresse che sono capaci e anche molto disponibili e anche che grazie ovviamente al numero piccolo di studenti i professori riescono ad interagire in maniera molto diretta ad essere molto più stimolanti anche credo per gli studenti e a volte si instaurano anche dei rapporti anche di amicizia di collaborazione persino insomma tra professori e studenti allo stesso modo proprio perché siamo pochi ci si riconosce subito e quindi è anche facile per chi per esempio come me è uno studente fuori sede fare amicizia e questa è una cosa importantissima perché comunque come anche è stato accennato prima la filosofia vive di confronto e in particolare ecco lo studio collettivo della filosofia aiuta a mantenerla viva a comprenderla meglio io ho imparato molte cose anche dai miei colleghi non solo andando ai corsi e quindi il mio consiglio è sicuramente quello di passare tantissimo tempo in facoltà appena ovviamente sarà possibile speriamo presto e di stare in università andare ai corsi confrontarsi con gli altri andare in biblioteca appunto perché la parte relazionale è davvero importante anche per rendere molto più piacevole tutto il vostro percorso un altro consiglio che sinceramente mi viene di darvi è di fare l'erasmus magari appunto adesso non ci pensate nemmeno a questa cosa però per me è stata davvero un'esperienza importantissima perché è stata un'opportunità ovviamente di conoscere tante persone di altre culture altri paesi è stato molto interessante per me anche confrontare i metodi di studio e di insegnamento io ero stata in Francia quindi ho confrontato come dire un po' le due istituzioni universitarie francese e italiana e ovviamente anche un modo per mettersi alla prova e testare la propria autonomia in maniera comunque molto divertente detto questo diciamo appunto sì i miei momenti più belli quindi sono sicuramente legati all'erasmus e poi legati alla tesi produrre dei propri elaborati insomma è la parte più più bella perché ci permette in quanto studenti che come è giusto che come diceva anche la professoressa Angelucci insomma la parte di apprendistato però deve per sempre portare anche credo a una sfida che è quella di produrre un proprio elaborato perché altrimenti torniamo a quella concezione passiva di cui parlava il professor Chiara Donna e quindi la tesi è stata davvero una cosa molto importante e il momento della laurea altrettanto detto questo non lo so rimango qui grazie davvero allora noi adesso entriamo in quest'ultima parte siamo un po' a ritardo ma insomma un po' è fisiologico un po' c'è stato quel piccolo problema tecnico che ha reso un po' più dilatati i tempi ma comunque insomma compatibilmente alle esigenze didattiche dei studenti che partecipano abbiamo il tempo per rispondere alle loro domande sia su quello che abbiamo detto sia su altri aspetti che su cui vorrebbero avere dei chiarimenti nel frattempo io volevo un attimo condividere con voi condividere con voi la la finestra del nostro del nostro canale youtube eccola qui dovreste 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 vederlo come vedete è canale filosofia roma 3 basta cercare su youtube filosofia roma 3 e qui trovate tutta una serie di video legati sia a convegni sia iniziative che abbiamo organizzato nel corso degli ultimi mesi ad esempio un ciclo di incontri filosofia in dialogo in cui sono intervenuti scrittori ma anche scienziati per esempio il fisico il fisico Rovelli oppure lo scrittore Matteo Nucci abbiamo interventi dei nostri docenti vedete qui la professoressa Angelucci ed altri il professor De Caro che insegna etica con una attenzione alle neuroscienze le scienze cognitive e anche degli interventi di nostri studenti e dottorandi io vi invito anche a guardare questi questi video perché vi permettono un po' di avere insomma in un momento in cui purtroppo non è possibile frequentare le lezioni le lezioni dal vivo ma vi permettono di avere una un'idea del tipo di insegnamento e di studio della filosofia che viene che viene praticato qui allora vedo una domanda relativa al test allora è una domanda che è stata posta ed è bene che sia stata posta voi nel bando troverete troverete una dicitura riguarda una prova di valutazione in entrata non è un test per entrare a filosofia vorrei che fosse chiaro filosofia non è a numero chiuso d'accordo quindi il test non è selettivo non è che non superando questo test non si viene ammesso a filosofia il test è un test di valutazione delle conoscenze delle competenze in entrata e comprende sia una parte generale di comprensione di un testo risposta a domande comprensione logico-linguistica sia una parte disciplinare con alcune domande di cultura generale un po' tagliata per gli studenti di filosofia questo test è destinato a capire se in entrata voi avete le conoscenze e le competenze adeguate per seguire un corso universitario posso dire che sulla base dei risultati degli ultimi anni gli immatricolati a filosofia hanno eccellenti risultati in questo test cioè risultano nel dipartimento il nostro corso quello che ha la media migliore di studenti in rapporto a questo test di ammissione ammettiamo però che non si superi questo test che cioè le risposte alle varie domande che ripeto sono domande sulla comprensione di un video di un video argomentativo di un testo scritto domande di tipo logico elementare e domande di cultura generale ecco qualora il posizionamento in questo test sia di livello basso non è che non si viene iscritti a filosofia ma sono previsti degli obblighi formativi aggiuntivi insomma dei corsi che peraltro sono corsi che hanno un ottimo riscontro anche da anche da parte di studenti che li hanno seguiti per altre ragioni che vi danno un po' gli strumenti per cominciare a lavorare nel corso di studio e alla fine dei quali è previsto una prova che va sostenuta entro il primo anno di iscrizione quindi questo è il senso del test vi aggiungo anche che dalla prossima dalla prossima dal prossimo anno Roma 3 aderisce a una sperimentazione volontaria di un test del ministero per le competenze di questo magari parleremo a a un inseguito allora leggo poi altre domande tutte molto interessanti gli sbocchi lavorativi allora guardate gli sbocchi lavorativi di filosofia sono io direi che bisogna informare e non promuovere in fondo nel senso che se uno cerca da una laurea uno sbocco lavorativo sicuro e garantito beh non si iscriva a filosofia questo lo devo dire con estrema sincerità perché ma filosofia è un tipo di laurea che se fatta bene consente e se fatta con grande motivazione perché io credo che il prerequisito per iscriversi a filosofia sia la motivazione se non siete motivati scegliete un altro corso di studio non ha senso iscriversi a filosofia e non essere motivati deve essere qualcosa che voi fate con grande convinzione e grande motivazione dopodiché gli sbocchi di filosofia sono sbocchi che coprono una serie di ambiti tradizionali uno degli effetti della pandemia è quello di far riscoprire la centralità dell'insegnamento nella nostra società quindi l'insegnamento come sbocco per i nostri laureati sta ritornando a essere uno sbocco centrale così come la ricerca che ovviamente riguarda poco ma comunque riguarda alcuni dei nostri laureati dopodiché filosofia dà quel bagaglio di conoscenze e di capacità di analisi che permette di andare anche in altri campi io vi dico quello che è emerso dal monitoraggio delle attività dei nostri studenti laureati e dal confronto con con il mondo del lavoro che abbiamo effettuato durante i vari rapporti di riesame del nostro corso di studio per esempio ambiti come l'informazione perché voglio dire il grande vantaggio di uno studente di filosofia rispetto a quello di altri studi è che sa sicuramente padroneggiare le tecniche che permettono di acquisire informazioni ma un bagaglio culturale che permette forse più di altri corsi di studio di selezionarle e analizzarle ed è quello che è emerso per esempio confrontandoci con i nostri laureati che lavorano in agenzie di informazione oppure che lavorano nel campo delle risorse umane in organizzazioni non governative o in aziende posso dire che due mie laureate tutte e due in storia della filosofia antica adesso lavorano con notevole successo e realizzazione in quest'area di studio e hanno sempre detto che lo studio del pensiero antico in realtà è stato importante per loro perché ha dato quella capacità di analisi di problemi complessi che magari persone addestrate a fare qualcosa hanno molto hanno molto di meno altri campi possono essere quello degli enti culturali quindi diciamo tutto questo rientra negli sbocchi possibili ma c'è un prerequisito c'è un ma affinché questo avvenga bisogna che l'università sia fatta in modo attivo non sia fatta seguendo passivamente i corsi da caso o a biostienze per cinque anni e uscendo dopo va fatta come diceva Bianca confrontandosi col mondo magari andando all'estero per l'Erasmus in questo modo si hanno davvero le conoscenze e competenze per avere degli sbocchi lavorativi quindi io direi che motivazione fondamentale direi anche io come dire tendo a non usare il termine passione perché il termine passione è un po' inflazionato ultimamente sembra che la passione basti a fare tutto ci vuole lo studio ci vuole la competenza e ci vuole la disciplina ma la la motivazione è uno studio non limitato diciamo alla frequente dei corsi sono caratteristiche chiave per avere poi degli sbocchi professionali soddisfacenti non è mai necessaria la conoscenza del greco e del latino per l'analisi dei test io insegno storia della filosofia antica faccio spesso riferimento al greco e al latino ma lo traduco a lezione posso anche dire che alcuni dei miei laureati più bravi venivano dal liceo scientifico poi hanno magari seguito un corso o da scuola in cui non c'era il greco hanno seguito magari un corso di greco elementare ma non è assolutamente necessario lo studio la conoscenza del greco e del latino questo assolutamente va specificato poi ovviamente se si conoscono non è non è un male cioè questo è ovvio ma non è richiesto allora le registrazioni delle lezioni sono accessibili ma solo agli iscritti quindi quest'anno con la pandemia coloro che sono iscritti a un corso devono essere iscritti hanno accesso alle registrazioni di quei corsi diciamo questo stiamo io penso ancora è un dibattito ma credo che questa possibilità di fruire dei corsi anche a distanza in qualche modo resterà anche dopo la pandemia perché si è scoperto che accanto al corso in presenza la fruizione almeno di parte del corso a distanza permette un po' come come la persona che ha scritto in chat giustamente dice ha una serie di iscritti che non avrebbero avuto possibilità di seguire di fruire delle lezioni teniamo comunque conto che la frequenza non è obbligatoria ovviamente la frequenza non è obbligatoria è molto consigliata c'è la possibilità quest'anno e l'anno scorso di seguire le registrazioni dei corsi però bisogna essere già iscritti voi non lo potete fare in questo momento ma gli iscritti ai corsi lo possono fare io come coordinatorio ho spesso fatto valere l'esigenza che anche quando la situazione covid sarà risolta credo che questo canale parallelo al corso in presenza dovrà in qualche modo essere mantenuto perché possiamo raggiungere tanti iscritti che altrimenti non avrebbero modo di seguire le lezioni allora gli studi all'estero saranno in lingua francese ovviamente sì il doppio titolo che è un titolo magistrale non triennale titolo magistrale prevede una metà del percorso a Roma e una metà a Parigi dove i corsi sono in francese questo è obbligo allora per quanto riguarda la domanda sulla le presentazioni della prova io magari rinvierei invece a Laura Marrocco la dottoressa Marrocco della segretaria didattica che forse può dare qualche informazione più nello specifico lo stesso per il calendario di iscrizione allora la storia della filosofia antica e medievale io insegno storia della filosofia antica abbiamo un insegnamento di storia della filosofia medievale sia triennale sia magistrale tenuto dal professor Benedetto Ippolito quest'anno abbiamo anche attivato una convenzione col CNR per un insegnamento supplementare di storia della filosofia medievale molto impostato sulla ricerca che viene effettuato nel corso di studio magistrale per quanto riguarda gli esami relativi al cristianesimo nel vostro piano di studi voi vedrete che c'è una rubrica di esami di base guardate forse non so se riesco a condividerlo perché questo è anche un altro tema ovviamente ovviamente in qualche modo un po' diciamo sentito da parte degli studenti dovrebbe esserci una griglia per il piano di studio il piano di studio è tale che ci sono delle discipline di base che voi dovete necessariamente frequentare delle discipline a scelta però delle discipline cioè delle discipline a fini integrativi a scelta in cui voi potete personalizzare il vostro il vostro piano di studi inserendo per esempio nell'offerta didattica di Roma 3 ci sono molti esami relativi alla storia del cristianesimo storia delle reddioni storia del cristianesimo questi sono assolutamente tali che possono essere inseriti nel nel vostro nel vostro piano di studio quindi la risposta è certamente certamente sì certamente sì allora non so se ci sono poi altre altre domande in chat allora quindi rispondo anche alla domanda certamente per quanto riguarda il piano di studio che è uno degli adempimenti che mette più paura agli studenti allora è un adempimento che si svolge da settembre a dicembre e dall'anno prossimo daremo anche la possibilità di modificare il piano di studio ad aprire è un adempimento che si svolge in collaborazione con i docenti ogni a ogni matricola è assegnato un tutor in base alla lettera del proprio cognome e abbiamo attivato un tutorato specifico per le matricole quindi diciamo proprio per la compilazione del piano di studio un tutorato in cui i borsisti e le borsiste ti aiutano nella compilazione quindi di questo adempimento un po' come dire un po' burocratico in realtà si si svolge chiaramente con assiduità da parte vostra ma si svolge in fondo abbastanza facilmente tra l'altro proprio all'inizio del del corso dell'anno accademico io tengo almeno uno e talvolta due incontri con i nuovi immatricolati proprio per per dare delle informazioni su adempimenti su adempimenti burocratici come la presentazione del piano di studi e lì potrete certamente inserire inserire tutto una una serie di attività che sono sia quelle obbligatorie di filosofia e di storia sia attività opzionali nelle varie rubriche sia sia laboratori allora vedo se ci sono altre domande allora i corsi sono pubblici dice Andrea lei ha perfettamente ragione il problema è che i corsi sono pubblici purtroppo la situazione Covid ha reso questo fatto un po' più complicato cioè i corsi tenuti a distanza si possono frequentare iscrivendosi nelle piattaforme Teams e Moodle e e in genere l'accesso è riservato agli iscritti ma questo per semplice ragione di organizzazione logistica cioè è molto difficile aprire le piattaforme anche ai non iscritti quindi purtroppo in questo momento l'unico accesso a lezioni mentre ecco se non fossimo in zona rossa vi direi che alcuni corsi si svolgono in presenza ma purtroppo anche i corsi che si svolgono in presenza a causa delle norme relative al contagio non possono essere ad accesso libero bisogna prenotarsi in modo tale che le aule garantiscano il distanziamento questo sono veramente rammaricato ma è una situazione legata legata al covid in questo momento credo che in questo momento nessuna università romana svolga corsi in presenza a causa delle norme relative alla zona rossa purtroppo questo è un po' però quello che potete fare sui corsi tenete conto che i programmi dei corsi e tutte le informazioni sono disponibili online quindi basta che per esempio voi cerchiate il mio nome su google riccardo chiaradonna Roma 3 vedete nelle pagine tutti i programmi che io ho svolto tutti i requisiti che io ho diciamo indicato per sostenere il mio esame quindi potete navigando su internet avere molte informazioni sul tipo di insegnamento che si che si possono che si possono assolutamente ricavare in modo semplice la laurea trennale in filosofia dà immediatamente accesso alla laurea magistrale in scienze filosofiche quindi non c'è bisogno di altre di altre prove ci sono molti il nostro il nostro insegna il nostro corso è di filosofia comunicazione e spettacolo e quindi potete in realtà avete una ricchissima offerta didattica e avete una ricchissima offerta didattica che copre davvero da fisica per filosofi a teatro e cinema da letteratura greca a a alle scienze cognitive cioè l'offerta didattica è amplissima per questo potete personalizzare il vostro percorso di studio allora in quali paesi università è possibile fare un erasmus durante la triennale i paesi sono quelli diciamo dell'unione europea purtroppo brexit ha complicato molto avevamo uno scambio anche molto valido con l'università di warwick che è un po' in forza a causa della della brexit non abbiamo tanti scambi le cito alcuni paesi che sono quelli in cui molto spesso i nostri studenti vanno a studiare la francia la spagna la germania i paesi bassi e questi paesi sono certamente quelli in cui un maggior numero di nostri studenti va a studiare le cito a qualche università l'università di monaco di baviera la sorbona l'università di barcellona l'università di di marxiglia l'università di lille in francia altre università tedesche come ad esempio l'università di friburgo e quindi effettivamente l'offerta è molto molto vasta gli scambi sono tanti e vi permettono davvero di avere una formazione fin dalla laurea triennale che spazi al di là della dell'ambiente in cui voi vi andate a iscrivere insomma quindi allora i luoghi in cui il corso sarà in lingua inglese ma in genere le università soprattutto del nord Europa prevedono corsi in inglese per esempio le università olandesi e anche alcune tedesche prevedono corsi in inglese quasi standard poi ovviamente quando si va a scegliere un corso una destinazione Erasmus bisogna andare prima presso il portale di quella destinazione e cercare quali requisiti chiedono sostanzialmente perché questi variano un po' da università a università insomma ecco quindi ma direi che soprattutto le università del nord Europa garantiscono corsi in inglese assolutamente insomma l'inglese è un po' ma anche noi a Roma 3 alcuni corsi della magistrale sono svolti in inglese io svolgo il mio corso in italiano alla magistrale ma per esempio chiedo una tesina e do la possibilità per chi voglia di svolgerla in inglese perché comunque sia una formazione attiva in questa lingua è ormai un requisito assolutamente necessario da avere insomma prego Bianca a lei la parola sull'Erasmus no volevo intervenire perché penso che magari Alice quando fa questa domanda ha timore del fatto che magari altre lingue non le conosce abbastanza io sono partita in Francia con le conoscenze come dire delle medie del mio francese che in realtà sono state anche sufficienti nel senso poi l'università offre dei corsi anche in preparazione proprio all'Erasmus perché ovviamente per partire bisogna avere una conoscenza minima anche questo è scritto nel bando insieme alle mete ci sono scritti le lingue che devono essere conosciute con il livello quindi l'università offre gratuitamente dei corsi di lingua che ti permettono di ottenere quella conoscenza sufficiente della lingua per partire e quindi non vi fate spaventare dal dover imparare una nuova lingua che invece è una cosa bellissima e che quindi tra l'altro l'inglese per forza di cose poi si parlerà ovunque andrete perché con altri studenti Erasmus si parlerà in inglese con gli inglesi Erasmus se ce ne saranno ancora si parlerà senz'altro inglese quindi insomma ecco che non sia soltanto la lingua a orientare la vostra scelta ma anche gli argomenti che si trattano in quelle università ecco assolutamente giustissima precisazione Bianca io volevo solo un secondo condividere una una finestra riguardo la proprio la la griglia del piano di studio ma deve esserci un piccolo problema tecnico perché ecco forse eccola qui dovreste vederla si accede a questa finestra dal la pagina del corso di laurea in filosofia e non in scienze filosofiche quello triennale e voi vedrete che sarete chiamati a selezionare nel vostro percorso degli esami alcuni dovete necessariamente sostenerli sono gli esami cosiddetti di base storia dell'etica estetica vedete che qui non potete selezionare nulla altre rubriche voi potete selezionare dentro una tendina no per esempio selezionare 12 crediti scegliendone no 12 in questa lista possibile sono le discipline cosiddette caratterizzanti oppure ci sono delle discipline cosiddette a fine integrative in cui la lista è ancora è ancora più ampia e poi delle discipline a scelta in cui potete davvero scegliere qualsiasi insegnamento impartito a Roma 3 in più delle altre attività formative che comprendono idoneità linguistiche abilità informatiche dei laboratori quindi insomma sono delle idoneità che sono funzionali a aumentare le vostre competenze uno dei primi traumi per così dire che gli studenti hanno è proprio la compilazione di questo piano di studi che in realtà è molto semplice è molto più semplice di tutto quello che voi fate quotidianamente sul vostro telefonino ma in ogni caso c'è sia un tutor sia un servizio di sportello presso la segreteria didattica che da settembre a dicembre vi aiuta quello che però va fatto è documentarsi sui corsi che vengono impartiti perché voi sapete che nell'università i corsi sono distribuiti su due semestri e può capitare che talvolta si compì il pieno di studio a novembre senza guardare i programmi degli esami che vengono magari impartiti da marzo a giugno e poi si voglia cambiare il piano di studio questo sarà sicuramente possibile dall'anno prossimo ma in ogni caso è bene che quando si come dire si imposta il piano di studio si abbia presente l'insieme dell'offerta didattica così come parlare con il tutor parlare con i vostri gli studenti borsisti permette per esempio di capire quali esami vanno inseriti nel piano di studio per accedere alle classi di insegnamento ed è un altro punto molto importante che si risolve proprio confrontandosi su questi su questi temi quello che ha detto quello che ha detto Bianca io credo è davvero importante perché uno dei punti io credo degli atteggiamenti che io talvolta ritrovo soprattutto nelle matricole è quello di essere un po' impauriti come e che succede se devo fare questo in realtà l'università è proprio un luogo in cui io credo lo studente per usare un termine deve un po' mettere in piena realizzazione le proprie capacità e l'apprendere per esempio non una ma due lingue straniere andare fuori la propria università è proprio uno di quegli elementi che permette di fiorire per così dire allora la registrazione su questo penso che forse potrà intervenire più la dottoressa Marroco saranno credo rese disponibili con un link a tutti i partecipanti ma sicuramente avrete accesso alla registrazione la pubblicheremo sicuramente sul canale youtube non credo di poter ottenere gli indirizzi dei ragazzi quindi sicuramente il canale youtube ragione in più per andare presso il nostro canale youtube e troverete quindi anche la registrazione di questa lezione io finora ho parlato molto io ma magari sui temi che ho affrontato vorrei anche sentire se Daniela o Giampalo hanno qualcosa da aggiungere per integrare o magari correggere quello che ho detto insomma io magari aggiungo soltanto una piccola cosa sui piani di studio in realtà l'hai già detto Riccardo però in quanto tutor anche io appunto aiuto gli studenti dei primi anni ad orientarsi sul piano di studio volevo sottolineare appunto quello che già diceva Riccardo cioè che il piano di studio si può ogni anno cambiare in una precisa diciamo fascia finestra cronologica si riapre la possibilità di cambiare qualcosa del piano di studi e quindi se nel corso del primo anno seguendo alcune lezioni capite anche cambiate i vostri interessi perché naturalmente l'università serve anche a questo potete farlo poi all'inizio dell'anno accademico successivo quindi di vivere questo momento della scoperta delle possibili materie che si possono studiare e sostenere all'università con curiosità e non con l'ansia che poi rimane scritto nella pietra perché appunto non è così e c'è modo poi di cambiarlo per assecondare anche appunto i nuovi interessi che il percorso universitario sicuramente porterà con sé quindi mi sento sicuramente di dire questo non so se Gianpaolo vuole dire qualcosa Sì anch'io grazie Daniela grazie Riccardo sì anch'io in quanto tutor ribadisco in pieno questo è chiaro che all'inizio c'è un po' di confusione magari anche un po' di paura però di non preoccuparvi perché poi dopo anche il primo anno voi avete anche più contezza un po' degli esami e anche in qualche modo anche qual è il vostro la vostra predisposizione anche per alcuni esami o rispetto ad altri quindi avrete tempo anche per cambiarlo in corso d'opera quindi di non preoccuparvi per questo Sì guardate i problemi io capisco perfettamente perché in fondo è successo a tutti noi quando si inizia il percorso universitario si vede immediatamente il problema di una burocrazia che sembra incombente ecco in realtà noi facciamo di tutto perché non sia così perché si rispettino le regole ogni comunità si fonda sul rispetto delle regole ma ci sia una una il massimo ausilio da parte nostra a mettermi nelle condizioni migliori per studiare e nel insomma è un po' quello che ha detto Bianca io coordino i corsi di filosofia e scienze filosofiche ormai da da tanti anni forse persino troppi anni ma insomma è sempre stata una priorità non solo mia ma anche di chi mi ha preceduto quello di non facilitare il percorso degli studenti perché è un percorso di studio impegnativo ma di dare agli studenti l'opportunità di svolgerlo nel modo migliore senza difficoltà inutili ecco questo sì questo io credo che sia davvero un veramente un dovere istituzionale per noi docenti che si deve coniugare invece a rigore poi della valutazione perché questo è ovvio questo è giustissimo e io penso che a Roma 3 facciamo tanto per rendere questa situazione più più agevole insomma chiaramente ci vuole anche una collaborazione da parte degli studenti perché gli studenti universitari sono persone adulte che devono sapersi organizzare devono interagire in modo consapevole con l'istituzione di cui fanno parte e devono interagire dando il loro contributo non semplicemente aspettandosi che qualcuno risolva i problemi perché questo ovviamente non è un atteggiamento di collaborazione ma devo dire che insomma nel corso degli anni abbiamo anche sempre avuto buoni riscontri da parte dei nostri studenti mi rendo anche conto che forse la situazione che viviamo da un anno aggrava un po' un certo senso di preoccupazione di ansia che cosa succederà ma in realtà io da questo punto di vista mi sento di dire che abbiamo parlato molto di adempimenti formali è giusto che voi poniate domande su adempimenti formali ma l'università poi è fatta di contenuti è fatta di formazione è fatta di un percorso di formazione intellettuale culturale umano e anche ovviamente lavorativo una tenete conto che tra le varie attività scelta c'è anche la possibilità di svolgere dei tiroscini ed è un'attività molto importante sia in istituti di insegnamento sia non so in istituti culturali in organizzazioni non governative quindi anche la possibilità di uscire dall'università per un tiroscinio è fondamentale anche e soprattutto per per studenti per studenti di filosofia ecco questo io terrei a insomma a sottolinearlo ancora una volta non so se ci sono altre domande non mi pare di vederne e ce ne sono state molte molto interessanti insomma io spero che quanti di voi sono interessati a filosofia mi raccomando lo dico fino alla nausea ma è una cosa a cui tengo molto iscriversi a filosofia senza motivazione è un grave errore di cui forse ripentirete dopo quindi iscrivetevi se motivati e se vi scrivete molto spesso ci si iscrive a filosofia in un contesto in cui come dire non si riscuote l'entusiasmo generale no? spesso quando si dice mi iscrivo a filosofia insomma è raro che si abbiano grandi parole di incoraggiamento ecco se lo farete io spero che voi lo facciate beh davvero fatelo senza risparmiare energie con grande motivazione e grande diciamo partecipazione all'attività di questo corso allora dunque io non so che ecco perfetto viene data io sono il coordinatore didattico diciamo come tutti i coordinatori didattici tutti i docenti io ricevo tantissime mail ogni giorno però vi posso dire che mi è capitato mi è capitato proprio in questi giorni per esempio di avere un appuntamento Skype con una studentessa di liceo che mi aveva contattato per mail perché mi chiedeva un parere una un consiglio io non non dico che posso farlo sempre ma insomma quando posso tutti noi siamo ben contenti di dare informazioni in questa in questo clima che abbiamo cercato un po' di descrivere insomma ecco fin qui io non 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 vi abbiamo detto quali sono stati i docenti illustri nostri cent'anni fa e quali allievi famosi sono laureati da noi non ve l'abbiamo detto perché siamo convinti che gli allievi più importanti siate proprio voi voi che vi state iscrivendo voi che cominciate il nostro percorso da noi e quindi non non vi infliggiamo un po' dei monumenti che alla fine servono a poco il nostro investimento è su di voi ecco il nostro investimento culturale ovviamente e anche di motivazione per il nostro lavoro non so se ci sono altre domande e non ne vedo io vi saluto e vi ringrazio molto voglio di nuovo presentare sia i miei colleghi ma prima ancora dei miei colleghi per salutarli la dottoressa Laura Marroco che ha dato un validissimo contributo oggi è una delle due responsabili della segretaria didattica insieme alla dottoressa Filomena Mancuso e grazie davvero e a lei certamente farete riferimento poi nel corso di una del vostro percorso a Roma 3 e credo che la sua grande efficienza oggi sia già stato un eccellente biglietto da visita insomma per il nostro corso di laurea grazie davvero e poi ringrazio ancora Daniela e Gianpaolo non so se loro vogliono chiudere con una breve battuta grazie grazie saluto tutti e ringrazio tutti per l'attenzione grazie grazie sì saluto anch'io tutti quanti e poi spesso ecco facendo ecco anche quello che diceva Riccardo le materie diciamo anche filosofie le materie umanistiche vengono un po' rilegate diciamo in secondo piano ma in realtà è veramente veramente importante fare un percorso che aiuta a pensare ecco grazie a tutti e arrivederci spero arrivederci arrivederci sono qui con il professor Massimo Marraffa per incominciare questo piccolo spazio di assaggio di lezioni di come sarebbero delle lezioni di scienze della comunicazione do subito la parola al professor Marraffa mille grazie sto caricando un piccolissimo powerpoint proprio per tenermi insomma in non più di dieci minuti nel presentarvi sostanzialmente alcune idee che cercano di dare un po' l'idea generale di quello che viene fatto nel corso che tengo per la laurea triennale di scienza comunicazione che è introduzione alle scienze cognitive e questo tema l'ho scelto sulla base di una caratteristica precisa cioè i giochi d'ultimatum e più in generale il discorso sull'economia sperimentale perché è un ambito un campo di studi che in cui si vede molto bene come molte discipline differenti interagiscono fra di loro cioè come per studiare dei fenomeni naturalmente a noi interessano fenomeni comunicativi dove i fenomeni comunicativi possono essere poi declinati in svariati modi a seconda dei contesti che prendiamo in considerazione in questo caso per indagare i fenomeni di cui si occupa l'economia sperimentale o l'economia cognitiva o l'economia comportamentale viene denominata in vari modi si vede molto bene come è necessario che biologia psicologia sociologia interagiscono interagiscano con l'economia e vi è anche un riferimento a quello che è stato appena accennato nella presentazione generale del corso di laurea cioè il fatto che ci sono dei riferimenti all'applicazione della neuroscienza a queste tematiche di decisioni di consumo e quindi il campo diciamo del marketing però questo è un ambito molto più generale quindi sostanzialmente dirò due tre cose per mostrarvi appunto l'intensità insomma e la ricchezza di interazione questo è molto importante in generale per il corso di laurea scienza comunicazione perché il corso di laurea scienza comunicazione presenta molte discipline differenti molte prospettive differenti e il problema generale è sempre quello di trovare il tessuto connettivo tra le varie discipline se si passa dalla linguistica alla sociologia alla psicologia all'informatica e naturalmente la bussola fondamentale è quella di riuscire in qualche modo a capire come anche queste discipline poi si compongono insieme per dare una prospettiva complessiva sui fenomeni comunicativi e questo è un buon caso nel senso che appunto quando noi parliamo di economia cognitiva economia sperimentale facciamo riferimento a un campo che si è sviluppato negli ultimi decenni che è stato influenzato fortemente soprattutto da la biologia evoluzionistica l'applicazione della teoria dei giochi alla biologia evoluzionistica e poi ha fortemente interagito con la psicologia che si è evoluta anche negli ultimi 30-40 anni come una psicologia di tipo cognitivo evoluzionistico ora queste cose sono molto oscure probabilmente adesso però vi faccio un esempio concreto per darvi un po' l'idea semplicemente l'idea di come avvengono questi studi come vengono portati avanti queste ricerche esistono dei paradigmi sperimentali per questo si chiama economia sperimentale in cui viene studiato uno dei fenomeni che tradizionalmente è stato tra i più problematici da studiare nella prospettiva evoluzionistica cioè le condotte cooperative che in taluni casi arrivano a essere anche condotte di tipo altruistico allora la cooperazione e l'altruismo sono sempre stati dei fenomeni problematici da dar conto e dal punto di vista della biologia evoluzionistica e inizialmente sono stati costruiti dei modelli che davano conto del cooperare fra consanguini cioè tra persone che appartengono alla stessa famiglia e quindi condividono sostanzialmente il patrimonio genetico parte del patrimonio genetico e molto più complesso è dar conto di perché esistono forme di cooperazione anche condotte altruistiche quando ci si trova sostanzialmente ad avere a che fare a scambi sociali fra i strani negoziazioni scambi che sono anche fenomeni comunicativi allora ci sono due principali modelli che sono stati utilizzati insomma storicamente insomma considerate che non stiamo parlando di niente di recente non stiamo parlando di 40 50 anni di lavoro insomma su queste cose e sono stati il dilemma del prigioniero su cui io non dirò nulla adesso e i giochi ultimato che è l'esempio che io rapidamente vi faccio per far capire un po' come si procede in questi contesti e l'ultimato un game è un gioco di negoziazione quindi c'è uno sperimentatore poi questo sperimentatore ha di fronte due soggetti due partecipanti all'esperimento uno lo chiamiamo proponente l'altro lo chiamiamo decisore quello che vedete qui adesso nelle slide sono delle vignette perché l'ultimato game è diventato totalmente noto da essere ormai anche oggetto di ironia insomma di fumetti ironici che sono stati creati sull'ultimato game comunque consiste in questo c'è lo sperimentatore che ha una somma di denaro in questo caso sono 100 dollari immaginate di avere 100 euro insomma 50 euro avete questa somma e questa somma di denaro viene data dallo sperimentatore nelle mani del proponente il proponente che cosa deve fare deve proporre al decisore una un'offerta di una parte di questa somma complessiva quindi immaginate che avete una torta e dovete di solito appunto si dice in termini statistici dovete offrire una parte della torta quali sono le previsioni che potremmo fare beh se voi guardate insomma le risposte che possono essere quelle appunto del decisore cioè il decisore sa che se lui rispinge rifiuta l'offerta né 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 il proponente beccano un euro cioè lo sperimentatore si riprende tutto quindi diciamo il proponente dovrebbe offrare un'offerta tale da non perdere la somma di denaro cioè quindi di indurre il decisore ad accettare l'offerta che fa però quali sono le previsioni che possiamo fare nel momento in cui sappiamo che questa è la regola insomma del gioco che stiamo prendendo in considerazione vedete è un gioco di contrattazione è un gioco di negoziazione questo la previsione è che se voi apprendete il modo in cui l'economia la teoria neoclassica ha sempre come dire visto il la gente il decisore e il paradigma è quello dell'uomo e naturalmente anche della donna economico egoista cioè si persegue il proprio interesse personale e quindi su questa base che cosa ci dovremmo attendere ma che il proponente proporrà farà un'offerta la più bassa possibile perché tanto al decisore conviene accettare qualunque cosa perché qualcosa è meglio di niente anche un euro è meglio che rimanere a zero insomma alla fine e però in realtà questo considerate questo è stato un esperimento replicato in tutte le forme possibili immaginabili ormai sono 40 anni che lo stanno sottoponendo e i risultati tipici almeno nel mondo occidentale è che il proponente offre al decisore una cifra che oscilla tra il 40 e il 50% della somma e di solito il decisore rifiuta le offerte che sono inferiori al 20% questi sono risultati strani perché il 40 e il 50% è molto alta come offerta e ancora più strano il fatto che se è sotto il 20% il decisore preferisce perdere tutto piuttosto che accettare ora abbiamo sostanzialmente quindi un controesempio un caso che noi riusciamo a far tornare con il paradigma che sta alla base della teoria neoclassica in economia cioè il il proponente come dicevo gli converrebbe mollare pochissimi soldi al decisore tenerseli senza fare storie e però non è la razionalità dell'uomo economico egoista qui che viene ritrovato insomma poi dagli sperimentatori ma un'altra forma di razionalità che viene chiamata la razionalità della fairness cioè dell'equità questo che cosa vuol dire vuol dire che il decisore nel momento in cui rifiuta l'offerta e un'offerta cioè inferiore al 20% della somma della torta complessiva sta comunicando sostanzialmente al proponente che non ha cooperato sufficientemente cioè come se fosse una situazione in cui il decisore si aspetta che il proponente cooperi e però siccome non l'ha fatto si dice in termini tecnici qui che ha defezionato all'interno della negoziazione e in quanto tale avviene sostanzialmente una condotta viene messa in campo una condotta che è stata definita negli articoli in cui sono riportati questi esperimenti una condotta di punitività altruistica cioè in qualche modo il decisore sta comunicando sta sanzionando la defezione da parte del proponente questo che cosa vuol dire che l'idea insomma nella cornice evoluzionistica di cui stiamo parlando è che l'evoluzione sostanzialmente cioè è stata un'evoluzione della cooperazione insomma che in qualche modo è cablata nel cervello degli esseri umani cioè sostanzialmente l'idea è che la defezione viene punita e questa tendenza alla punitività altruistica promuove nei gruppi la cooperazione cioè è un modo di tutelare la cooperazione all'interno di gruppi sociali e questa naturalmente come vedete è un'ipotesi che mette in campo una quantità differente di discipline perché voi dovete prendere in considerazione appunto che siamo partiti dalla biologia evoluzionistica stiamo parlando di economia di decisioni economiche e poi ci troviamo in una situazione in cui è interessante anche a vedere per esempio la psicologia dello sviluppo che cosa ci dice cioè esiste una tendenza alla cooperazione precoce e universale nel bambino nel bambino molto piccolo sembrerebbe esserci e quindi esiste una letteratura enorme smisurata in vari campi su questa tendenza a cooperare cioè il fatto che noi non soltanto abbiamo una tendenza egoistica quella sicuramente c'è c'è competizione c'è tendenza all'auto affermazione però questo entra in un rapporto dialettico sempre con anche una tendenza a fare le cose insieme a cooperare e questo cooperare avviare non soltanto tra consanguini quindi non soltanto all'interno del gruppo familiare ma anche all'interno di contesti in cui noi interagiamo con non consanguini e anche addirittura con estranei concludo quindi questo discorso e ultimo elemento questo ha prodotto anche tutta una letteratura negli ultimi anni in neuroscienza cognitiva e cioè si è andato a utilizzare le tecniche di neuroimmagine per andare a vedere che cosa succede quando i soggetti giocano l'ultima don game ora questo è un articolo classico quindi è anche invecchiato perché è del 2003 sono postati 17 anni e 17 anni in neuroscienza cognitiva è un'enormità di tempo però è molto citato è ormai diventato un piccolo classico anche se probabilmente è un modello sbagliato di quello che accade però sostanzialmente è un modello competitivo cioè come vedete si prende in considerazione quello che accade quando il decisore rifiuta l'offerta da una parte vedete sulla sinistra c'è la corteccia prefrontale dorsolaterale queste sono le elaborazioni di immagini neuroimmagine la corteccia prefrontale prefrontale torsolaterale è legata come dire a un calcolo utilitaristico semplificando cioè viene preso in considerazione il valore di gratificazione del denaro dall'altra parte esiste un'attivazione dell'insula che fa parte del sistema limbico che è tradizionalmente correlato con risposte di tipo emozionale quindi ci sarebbe una risposta di rabbia morale potremmo dire nel soggetto quindi un particolare tipo di rabbia perché il decisore ritiene di non essere stato trattato in maniera equa l'altro ha defezionato non ha cooperato e quindi io lo punisco e poi esiste per questo è un modello competitivo esistono una serie di strutture che cercano di mediare il conflitto che sono quelle della corteccia cingolata anteriore ora ovviamente adesso questi i nomi esoterici insomma della neuro della neuroscienza non ci interessano quello che ci interessa è che come vedete per affrontare un tema che riguarda le decisioni economiche noi abbiamo parlato di biologia di neuroscienza di psicologia e abbiamo messo tutto dentro una cornice evoluzionistica questo era soltanto per farvi un esempio di interdisciplinarità e quindi chiudo qui e lascio la parola alla professoressa numerico grazie grazie massimo anche per questa pillola proprio di così insomma che ci fa capire quanto è profondo insomma interessante il lavoro allora io sono un po' incerta se fare una lezione visto che è già parecchio tardi volevo in realtà rispondere a un po' di domande che sono venute fuori nella chat e anche invitarvi eventualmente a farne altre se volete allora le lezioni non è obbligatorio seguirle in generale in questo corso quindi è possibile fare gli esami senza seguire le lezioni è però molto auspicabile seguire le lezioni perché questa è una grande opportunità che l'università offre cioè di di poter insomma incontrare perché è quello che normalmente normalmente si si pensa scorrettamente che l'idea dell'università sia imparare delle cose insomma apprendere delle nozioni di fatto invece l'università è un'attività ovviamente si imparano anche delle nozioni però sostanzialmente è una comunità universitas cioè il fatto che delle persone si trovino insieme a condividere lo stesso spazio e lo stesso tempo e e questo li porta a dialogare tra loro ovviamente il docente si trova in una posizione di superiorità sia perché mette i voti sia perché ha studiato di più però questo non vuole dire che gli studenti non possano invece contribuire a far venire delle idee ai docenti e anche a offrire una prospettiva nuova quindi e questo però ovviamente si può fare solo se ci sono questi momenti di scambio e di di condivisione quindi la lezione non è tanto il fatto che uno impara delle cose perché quelle le può imparare anche sui libri sui libri ci stanno scritte ma è il fatto che uno si trova a condividere uno spazio un tempo e quindi a poter comunicare io non lo so parlate con i vostri genitori per me per esempio gli anni dell'università sono stati gli anni nei quali ho fatto delle amicizie più durature con le quali io ancora sono in contatto quindi ho imparato ho pensato delle cose ho non soltanto studiato ho anche guardato il mondo da una prospettiva differente e questo è stato anche il frutto del fatto che io ho frequentato le lezioni ho incontrato delle persone dei docenti ma anche dei colleghi all'interno di questo di questo spazio quindi la frequenza non è obbligatoria ma è caldamente consigliato farlo se ci sarà la possibilità l'altra questione è a distanza in presenza io spero che l'anno venturo la situazione sia sotto controllo e che quindi si possa riprendere a fare lezioni in presenza ovviamente sarà sempre possibile collegarsi a distanza io credo che questo sarà una cosa che resterà ma per quanto riguarda la registrazione credo che ci saranno dei docenti che registreranno io personalmente per esempio non registro le lezioni però alcuni docenti le registreranno e quindi sarà possibile anche qua fruirne da remoto la parte amministrativa organizzativa di un'azienda assistenza per la direzione scienza e la comunicazione no forse se volete occuparvi di questioni aziendali che non riguardino il marketing ma appunto più che altro la gestione organizzativa e amministrativa magari è meglio studiare economia questi esempi scusate mi sto perdendo molti sbocchi lavorativi vabbè per gli sbocchi lavorativi ne ha parlato già la nostra coordinatrice la professoressa Iannelli nella prima parte della insomma dell'incontro comunque vi posso sinteticamente dire che sono tutti i lavori che hanno a che fare con la comunicazione quindi dal social media marketing dal social media manager appunto al marketing alla alle attività di ufficio stampa che sono sempre più centrali a tutte le attività che attengono alla comunicazione sia all'interno del contesto aziendale sia all'interno del contesto pubblico perché per esempio tutti gli uffici pubblici ora hanno un ufficio di comunicazione col pubblico e dentro a questi uffici per esempio si può lavorare e poi certamente approfondendo sarà possibile anche partecipare ad attività di tipo giornalistico sebbene appunto queste attività sono molto in difficoltà in questo momento e quindi è difficile capire come sarà il giornalismo del futuro anche anche le attività di comunicazione che hanno a che fare con la radio e la televisione sebbene appunto non specificamente dal punto di vista formativo però questo corso offre la possibilità di approfondire anche questi questi temi e poi eventualmente coltivare personalmente la possibilità di lavorare in quel mondo ci sono degli stage è possibile fare degli stage è possibile fare delle attività di approfondimento appunto scegliendo queste attività tra quelle offerte c'è anche nella laurea magistrale la possibilità di approfondire il tema dell'editoria che anche questo è un settore molto in crisi ma tuttavia è sempre un settore che è in funzione insomma che che è un possibile sbocco lavorativo per chi è laureato in scienza e la comunicazione potete fare se appunto imparerete bene a comunicare per scritto potreste potrete anche fare l'attività di ghost writing che appunto sono delle attività molto molto richieste e e quindi non ci sono particolari bisogno di particolari requisiti per intraprendere questo tipo di percorso di laurea il piano di studi si trova online nelle nelle pagine del del sito web dedicate a scienze della comunicazione magari se la segreteria può mandare online il link alla pagina online così possono così chi vuole può vederseli organizzazione di eventi questa potrebbe essere la strada giusta certamente insomma la triennale di scienze della comunicazione può essere sicuramente un punto di partenza per eventualmente poi lavorare nel mondo dell'organizzazione e della gestione di eventi sulle informazioni tecniche dovete rivolgervi alla segreteria o direttamente all'ufficio orientamento le lezioni sono più o meno tutti i giorni però saranno compatte in modo tale che uno possa non debba scegliere cosa frequentare quindi non ci dovrebbero essere sovrapposizioni il test ingresso normalmente si fa a settembre bisogna vedere se quest'anno il test ingresso sarà comunque selettivo o soltanto informativo nel caso di scelga l'accesso a biennio e ad accesso libero sì nel caso sicuramente se uscite dalla triennale della nostra laurea poi potete accedere liberamente alle magistrali che sono collegate con questa laurea gli studenti fuori sede comunque sicuramente potranno continuare a seguire le lezioni a distanza e appunto vale quello che ho detto prima cioè sarebbe bello che l'università fosse un'occasione per incontrarsi quindi in questo senso non ve lo consiglio di fare l'università a distanza ma se sarà necessario comunque potrete sicuramente farlo ci sono molti studenti che attualmente seguono i corsi a distanza per le borse Erasmus ci sono tanti paesi dove si può andare bisogna partecipare ad un bando e poi attraverso questo bando venire selezionati e all'interno di questa se verrete selezionati poi potrete scegliere tra le varie opzioni potete anche questo le informazioni sulle borse Erasmus sono online si trovano online nella sezione internazionalizzazione è un corso ad accesso libero c'è solamente un test valutativo allora l'anno scorso è stato così un corso ad accesso libero con esclusivamente un test valutativo quest'anno non so come sarà non credo che ok si è un corso ad accesso libero ed è previsto un test valutativo che tipo di materie si studiano si studiano materie molto appunto varie che vanno dalla linguistica alla appunto filosofia della scienza che è la materia che insegno io filosofia della tecnologia che è la materia che insegno io poi ci ci sono materie storiche ci sono c'è marketing ci sono materie filosofiche materie linguistiche e materie economico diciamo legate al settore dell'economia e del marketing quindi è una laurea molto molto varia allora nell'ambito della storia dell'arte se per esempio volete occuparvi di di organizzare eventi all'interno della all'interno del del mondo della della eredità culturale eccetera questo potrebbe essere una triennale interessante il test valutativo valuta semplicemente le vostre competenze generali sia di cultura che di capacità diciamo psicoattitudinali e credo la valutazione sulla vostra conoscenza della lingua inglese gli esami li potete scegliere all'interno di una serie di vincoli quindi ci sono alcuni esami che sono obbligatori altri esami che sono a scelta in una rosa e poi avete comunque la possibilità sempre di scegliere degli esami a scelta libera le informazioni ecco Federica Ubertini ha messo online il link al sito insomma dove potete trovare tutte le informazioni tecniche allora diciamo nel nostro corso ci sono ovviamente i corsi sono consigliato seguire un percorso di tipo formativo ma non c'è nessun obbligo di fare un esame prima di un altro quindi in questo la vita universitaria sarà molto diversa dalla vita del liceo della scuola superiore perché voi sarete comunque di fronte a voi stessi rispetto la scelta di quando frequentare come frequentare come organizzarvi per seguire corsi quindi su questo non ci saranno vincoli e sarà tutto demandato alla vostra scelta c'è un percorso consigliato ovviamente a cui voi potete tenervi però questo percorso appunto non è obbligatorio perciò voi potete comunque scegliere come fare a stare al passo con le lezioni ci ci sono ci sono degli esami d'inglese dovete comunque avere un certo acquisire insomma durante il corso un certo livello che mi sembra che sia il B2 alla fine del del triennio e poi invece credo il C1 o il C2 nella magistrale gli stagi all'estero appunto abbiamo detto l'Erasmus dove trovate le informazioni online potete anche richiedere una borsa di studio per la tesi all'estero questo appunto dipenderà un po' dal tipo di tesi che vorrete fare dall'argomento che sceglierete e comunque anche questa è un'opzione si faranno esami di lingua ho detto sì ok le informazioni sull'iscrizione ve le ha mandate Daniela Manenti i percorsi Erasmus diciamo voi potrete passare sei mesi o nove mesi all'estero e ci sono varie università con le quali appunto scienza e la comunicazione ha un accordo Erasmus quindi in questo senso voi potrete accedere fatta la domanda e i risultati vincitori del bando di accesso all'Erasmus potrete accedere a queste università sono soprattutto le università che sono coinvolte sono di ogni genere ce ne sono in Germania ce ne sono nei paesi nordici in Spagna in Francia in Portogallo in Olanda diciamo si può andare in tutta Europa si tratterà poi appunto di capire dove vorrete andare voi compatibilmente con dove potrete scegliere di andare nel punto della graduatoria in cui vi troverete essendoci appunto qualcuno che prima di voi potrà scegliere dove andare per le tasse da pagare dovete leggere sicuramente il bando di iscrizione e poi rivolgervi alla segreteria studenti eventualmente qualora aveste delle dei dubbi allora qualcosa che concerne il lavoro con i bambini diciamo il lavoro con i bambini si studia di più nei corsi di pedagogia e quindi se siete interessati a lavorare con i bambini direi che quello è più l'ambito a cui dovreste guardare nell'ambito delle scienze cognitive il professor il professor Marraffa è sicuramente un grande esperto in questo senso ci saranno comunque anche delle informazioni di psicologia dello sviluppo però diciamo questo non è il focus centrale del nostro corso di laurea che invece è orientato piuttosto alla appunto alla comunicazione in generale ovviamente anche con i bambini si comunica però appunto là ci sono delle competenze specifiche da sviluppare quindi io vi suggerisco se siete interessati a lavorare con i bambini a cercare piuttosto nell'ambito della pedagogia la vostra laurea allora le magistrali che si possono scegliere all'interno del nostro percorso formativo sono due una è informazione editoria e giornalismo e appunto si rivolge a tutto quel settore che riguarda appunto la comunicazione scritta o anche diciamo non scritta ma orale o diciamo il telegiornalismo e la comunicazione quindi giornalismo e editoria e più in generale le attività che si svolgono online all'interno del mondo della comunicazione quindi social media marketing eccetera eccetera l'altra area è invece si chiama scienze cognitive della comunicazione e dell'azione ed è un corso di laurea in diciamo che prepara più che altro ad una attività di ricerca nell'ambito delle scienze cognitive questa attività di ricerca delle scienze cognitive non è esclusivamente un'attività di ricerca voi potrete anche avere accesso per esempio alla possibilità di che ne so lavorare per esempio nell'ambito delle risorse umane o dell'organizzazione delle aziende o insomma ci sono vari percorsi che si aprono però principalmente quella laurea è una laurea che si propone di formare dei ricercatori che quindi possono lavorare nell'università come ricercatori o anche negli enti di ricerca se per motivi privati si deve cambiare allora se dovete fare un cambio di università dipenderà un po' dall'università dove andrete se se dovete che cosa vi verrà convalidato quindi questo non è una cosa che si può dire così una volta per tutte perché dipende un po' dal tipo di percorso che si sceglie dove si sceglie di andare quale quanti e quali esami vi verranno convalidati quindi per questo poi dovrete un po' capire che cosa vorrete fare credo che per andare in Erasmus si possa fare la domanda già da quest'anno per partire l'anno prossimo perché il bando è l'anno precedente per partire il secondo anno per le tasse che tipo di requisiti sono richiesti il piano di studi va presentato credo che questa sia un'informazione della segreteria comunque credo nella prima metà dell'anno c'è una quota di iscrizione a pagare queste sono informazioni che dovete chiedere alla segreteria allora il link adesso sicuramente ve lo possono dare le colleghe della segreteria sulle materie materie che toccano l'ambito del cinema e dello spettacolo se siete interessati all'ambito del cinema e dello spettacolo forse siete più interessati al Dams è possibile comunque anche avere delle informazioni ci saranno comunque dei corsi in cui si parlerà di cinema e di spettacolo però non è il focus centrale io purtroppo credo che mi devo fermare qui perché siamo già in ritardo per dare la parola agli studenti che vi racconteranno un po' come è fatto il corso per loro cosa è stato il corso per loro a voi buongiorno se volete parto io ma non so se mi vedete sì sì ti vediamo sì ti vediamo ok perché io non mi vedo però se voi mi vedete va bene allora buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio entrambi i docenti per la presentazione che hanno fatto perché sono stati veramente esaustivi soprattutto in quest'ultima parte con le domande complimenti non avrei saputo rispondere a così tante domande allora diciamo che sul corso di laurea su per giù penso abbiate capito in linea generale quali sono i temi che vengono toccati come si affrontano le lezioni e via dicendo quindi io vi parlo di quella che è stata la mia esperienza personale così che magari potete non so identificarvi con quello che è stato il mio percorso dopo il liceo io ho fatto il liceo delle scienze umane nell'anno in cui era diventato da classico a scienze umane quindi una sorta di classico con psicologia diciamo così e non avevo dopo il liceo un'idea ben definita di cosa volessi fare all'università mi sentivo anche un po' fuori luogo in realtà perché vedevo i miei colleghi compagni di classe che voglio fare medicina voglio fare lettere io ho sempre avuto interessi diversi tra loro e quindi alla fine la soluzione che ho deciso di adottare è stata quella più semplice però anche quella più esaustiva secondo me ovvero aprire l'elenco degli esami di tutti i corsi di laurea ai quali ero interessata e semplicemente vedere quali esami e quali programmi fossero più affini ai miei interessi quindi la scelta appunto è stata quella in comunicazione probabilmente proprio per questo carattere che è emerso già nell'incontro di prima quello generale ma ancora di più adesso molto poliedrico di comunicazione che spazia veramente dalla filosofia al marketing alla psicologia alla linguistica e via dicendo e quindi ho iniziato le lezioni e questa multidisciplinarietà è veramente il punto di forza che poi ho ritrovato dopo a livello formativo e anche a livello lavorativo io ormai ho seguito le lezioni sei anni fa e poi ho conseguito anche la laurea magistrale e attualmente seguo un master e per chi chiedeva della parte digitale virtuale già all'epoca quando seguivo le lezioni io era veramente approfondita e ho visto che adesso ad oggi il programma è ancora più approfondito dal punto di vista digitale e quindi io mi sono ritrovata poi alla fine di tutto il percorso a fare anche social media manager per alcune associazioni nello specifico mi occupo di realtà artistiche istituzioni culturali nel digitale e nel virtuale quindi poi io ho preso più una strada dell'estetica della filosofia e artistica però tutte le conoscenze quindi anche quelle più tecniche e cognitive le ritrovo quotidianamente lavorativamente parlando e questo è proprio per il fatto dell'avere più lezioni che ti permettono di affrontare varie varie vari punti di vista ecco e l'altro punto di forza che io mi sento di consigliare questo corso di laurea è per il fatto che è estremamente legato alla contemporaneità e quindi fare lezione finire lezione poter attuare immediatamente quello che si è che si è appena appreso credo sia un punto di forza veramente valido la comunicazione oggi ci pervade da ogni punto di vista soprattutto adesso e quindi credo sia questo un altro punto di forza in realtà non abbiamo molto tempo perché so che anche altri miei colleghi volevano raccontare del loro percorso quindi io lascerei la parola ai miei colleghi poi adesso vedo un attimo qualche domanda che c'è qui in chat e magari vi rispondo al volo dopo non lo so non so se c'era Simone prima di me oppure parlo io vabbè vado io poi in caso passo dopo la parola a Simone allora buongiorno a tutti io sono Federica Scozzeri e sono un'ex studentessa del corso di laurea magistrale in informazione editoria e giornalismo allora anche io ovviamente non entro nel merito delle lezioni perché ne è stato ampiamente discusso e vi parlo brevemente della mia esperienza all'interno del corso di laurea sicuramente la scelta del corso di laurea parte da una mia passione per la scrittura per la lettura per il giornalismo per tutto quello che è l'ambito della comunicazione venivo da un percorso di mediazione linguistica e culturale quindi un percorso un po' diverso che però è riuscito a diciamo inglobare nell'arrivo a scienze della comunicazione tutto quello che io comunque avevo fatto nel percorso di studi precedenti quello che vi posso dire è che sicuramente è una scelta di cui non mi sono pentita è una scelta che rifarei altre mille volte ed è una scelta che a distanza di un anno dalla fine del mio percorso di studi mi ha comunque portato a raggiungere dei piccoli grandi risultati insomma delle soddisfazioni per quanto riguarda il piano di studi l'aveva già anticipato prima la professoressa ma è una cosa su cui io mi voglio soffermare nel senso che voi sotto questo punto di vista siete abbastanza liberi nel appunto gestire il vostro percorso di studi ci sono sì delle materie obbligatorie da sostenere ma non c'è l'obbligo di sostenerle per forza nel primo o nel secondo anno cioè gestite voi la scelta di sostenere gli esami ovviamente all'interno delle sessioni di riferimento quando sostenerli in base anche alle vostre esigenze lavorative se lavorate un'altra cosa su cui voglio porre l'accento è la possibilità di mettere in pratica quello che voi fate nel corso di studi e vi è data la possibilità appunto di svolgere un tirocinio obbligatorio formativo che vi assicuro vi aprirà le porte nel mondo lavorativo io stessa ho svolto un tirocinio presso Sky TG24 che ovviamente conoscete tutti penso ed è un'importante testata di stampo nazionale lì io ho avuto modo di lavorare per sei mesi all'interno della redazione politica e si apre un mondo totalmente diverso e a me inizialmente sconosciuto che solo potevo immaginare perché oltre ad avere il contatto diretto con giornalisti quotidianamente c'è anche il contatto con gli uffici stampa e comunque di personalità di rilievo il corso di studi non è solo studio in quanto potrete vivere l'università in maniera un po' diversa grazie anche alla possibilità delle borse di collaborazione non so se ne siete a conoscenza comunque l'università mette a disposizione annualmente un bando e vi dà la possibilità di lavorare all'interno dell'ambiente universitario venendo retribuiti e quindi vi dà la possibilità di scoprire di venire a contatto con diverse realtà io stesso ho avuto la possibilità di lavorare all'interno della segreteria didattica quindi c'è un contatto diretto sia con il personale che con gli studenti certo in questo periodo è tutto un po' difficile anche per me che comunque continuo a lavorare ma lavoro da casa però vi assicuro che se le relazioni si vogliono mantenere si possono mantenere anche in questo periodo che altro dirvi è sicuramente un corso di laurea all'avanguardia e al passo con i tempi vi invito per rimanere aggiornati a seguire i nostri i nostri canali social in particolare facebook e instagram sotto il nome di comunica 3 potete fare tutte le domande che vorrete alla segreteria didattica che è disponibile su skype con uno sportello virtuale per il resto in bocca al lupo a tutti e speriamo di rivederci Simone non so se c'è oppure passo la eccolo eccomi se mi vedete se mi sentite buongiorno a tutti allora chiudo il discorso anche con la mia testimonianza anche se chi mi ha preceduto ovviamente ha fatto un quadro molto ampio se è i docenti che le mie colleghe Chiara e Federica allora portando la mia portando la mia esperienza brevemente riguardo a quello che ci siamo detti adesso anch'io ho avuto modo io innanzitutto sono studente della magistrale di informazione editoria e giornalismo e l'ho fatta subito dopo aver conseguito il titolo in scienze della comunicazione quindi diciamo ho fatto esperienza a Roma 3 sia nella trennale che nella magistrale questo penso che sia importante dirlo è un momento di incontro con me questo proprio perché posso portare appunto la mia testimonianza e io sono molto soddisfatto del percorso che ho fatto ho ritrovato alcuni docenti nel percorso trennale anche in quello magistrale e quindi ho avuto la possibilità di approfondire con loro molto il rapporto umano questa secondo me è una cosa importante specialmente in un momento difficile quello che stiamo vedendo adesso magari quello lo starete sperimentando già in questi in quest'ultimo anno di liceo delle scuole superiori avete visto che fare lezioni a distanza è diverso da come eravamo abituati c'è una distanza molto più grande molto più accentuata eppure l'università di Roma 3 che è sempre puntato su questa vicinanza tra studenti e docenti proprio in un momento come questo è riuscita a trovare nella didattica a distanza comunque uno strumento per avvicinare le due parti e fidatevi che è una cosa molto importante quando hai professori all'università che ti chiamano per nome quando hai professori che ti invogliano a partecipare a dei progetti sia nelle lezioni che seguite sia al di fuori delle lezioni per dire approfondimenti fidatevi che è qualcosa che vi resta e che soprattutto vi porta a vivere la vita universitaria a 360 gradi anche se oggi stiamo dentro a un computer perché ovviamente la speranza è quella di tornare subito in presenza e questa cosa mi premeva dirla in apertura puntando al fatto che poi si spera il prima possibile torneremo tutti a vivere l'università in presenza vi racconto quella che è stata la mia la mia esperienza in questo percorso sia triennale che magistrale che nella laurea specialistica durante questi anni ho avuto la possibilità sia i miei colleghi di corso di fare delle diverse esperienze sia come diceva Federica io sono stato anche come lei borsista lei è stata in segreteria invece sono stato nella biblioteca della nostra università la biblioteca umanistica quindi ho avuto la possibilità di vivere l'università da un punto di vista anche lavorativo con una retribuzione ma soprattutto facendo un'esperienza che come stiamo leggendo dalle domande che state facendo in chat è una cosa molto importante a cui tutti puntiamo ovviamente e quello è già un primo modo che l'università ci fornisce per metterci in gioco però io ho fatto delle esperienze in delle giornate in delle aziende ad esempio nella RAI siamo stati con i docenti siamo stati ospiti di diverse trasmissioni quindi abbiamo visto la macchina televisiva da dietro le quinte e poi siamo andati in onda durante delle puntate della RAI abbiamo fatto delle prove sul campo nell'ambito del giornalismo d'inchiesta prima vedevo che qualcuno ne parlava e del fotogiornalismo qui ci sono tanti momenti in cui l'università ti prende per mano e ti porta sul campo ovviamente poi sta a noi sta a tutti noi metterci in gioco e questo penso che sia diciamo l'insegnamento più grande che questi anni di università proprio qui a Roma 3 proprio in queste facoltà mi ha lasciato cioè il fatto di mettermi in gioco il fatto di non avere paura di cercare nuove strade io ho cominciato la triennale in comunicazione con l'idea di diventare giornalista e quello tutt'oggi è il mio obiettivo lavorativo perché in questi anni ho sempre cercato di sperimentare ho sempre cercato di mettermi in gioco oggi collaboro come social media manager con delle aziende ho fatto delle delle esperienze come vi dicevo lavorative con l'università e sto seguendo un tirocinio all'ISTAT quindi nel campo statistico come vedete come diceva la professoressa Iannelli prima nella riunione generale la comunicazione è un campo molto ampio ecco quello che vi posso che vi posso suggerire che mi sento di suggerire come uno di voi che sto finendo di studiare mi sentiamo con noi a Roma 3 è proprio questo cioè non abbiate paura di mettervi in gioco di sperimentare di cercare nuove strade l'università è un insieme di conoscenze di personalità e questo è proprio il frutto più grande che voi potete qui voi potete ambire in questo percorso quindi da parte mia penso anche da parte di sicuramente da parte di tutti quanti più grandi in bocca al lupo per il vostro futuro e se sceglierete di proseguire gli studi a Roma 3 ovviamente sarete benvenuti e avrete negli studenti sempre un punto di riferimento sia negli studenti sia anche nei docenti grazie dell'attenzione Simone era l'ultimo giusto? Sì sì professore è stato l'ultimo che è la scaletta allora io direi che se abbiamo risposto a tutte le vostre domande non lo so però credo che dobbiamo interromperci qui perché credo ci siano poi appunto abbiamo un po' dei vincoli di orario comunque potete fare tutte le domande che vorrete all'ufficio orientamento e alle segreterie studenti e eventualmente anche a noi personalmente scrivendoci una mail trovate la mail dei docenti online io sono Teresa Numerico e quindi la mia mail la trovate facilmente Teresa.numerico chiocciola uniroma treannumero punto it e così tutte quelle degli altri docenti se avete delle questioni specifiche credo che quindi ci salutiamo qui va bene grazie a tutti e speriamo veramente di vedervi in diretta in presenza l'anno prossimo a lezione vi aspettiamo grazie mille a tutti ciao grazie 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 a tutti